Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Buonasera, questa sera è la quarta conferenza che la Pallamano d'Ortona ha organizzato per portare alla popolazione di Tortona lo sport visto in un modo diverso rispetto a quello che è il semplice atto agonistico. Abbiamo parlato di malattie trasmissibili in comunità, abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di prevenzione delle malattie con la Lilt. Questa sera cambiamo argomento e l'amico Giacomo Prati, studioso di storia dell'arte, è molto brillante, vedrete come accattivante nelle sue interventi, ci parlerà dello sport nell'arte e credo che sarà molto interessante. In sala c'è il vice sindaco di Tortona che se vuole adesso, se no alla fine, ci dirà due parole, come vuoi, se vuoi venire adesso. Ok, come vuoi, era per tenerti qua. Ok, e quindi allora do la parola a Giacomo e buon divertimento. Ringrazio Eugenio Rizzi, ringrazio anche io vice sindaco, dottor Silvestri e il presidente Buscaglia della loro presenza e tutti voi. Quando Eugenio mi ha detto, dici qualcosa su arte e sport, ho subito risposto distinto, va bene, è un argomento entusiasmante. Poi non mi sono pentito, però mi sono accorto che è veramente un argomento immenso, per cui ho dovuto impegnarmi abbastanza nel approfondire certa documentazione, nel cercare un po' sia sui libri che sul web un po' di opere d'arte. È un argomento immenso perché le società antiche, ma quando dico società antiche le dico fino a quando i nostri nonni erano giovani. Le società intanto hanno dei salti, delle rivoluzioni. Come oggi viviamo lo sport, che è un valore eterno, che ci sarà sempre per l'umanità, è condizionato da questo tipo di società. Ma c'è un filo rosso che lega dall'antichità fino a quando erano giovani i nostri nonni. Cioè si chiamava la cosiddetta società organica, nel senso che non c'erano queste distinzioni così nette come ci sono adesso, spesso artificiali fra sport, cultura, vita sociale, spiritualità. Vedremo che lo sport ha sempre avuto una componente spirituale e culturale molto profonda. E quindi trovare esempi di arte che racconta lo sport non è un problema. Bisogna però cercare anche quando nell'opera d'arte si parla dei valori dello sport senza magari descrivere direttamente lo sport. Cioè l'argomento è molto più vasto di quel che sembri. Non è solo scultura e pittura in movimento che è un bel sottotitolo ed è giusto. Ma tutta l'arte si è interessata di quello che oggi chiamiamo sport, ma è un termine di inizio ottocento. Prima si chiamava gara ginnica, atletica, giochi in tanti modi, ginnastica in tanti modi diversi. Ma è sempre la stessa cosa. Cambia in modo i valori che gli diamo nei secoli, ma è quello. Vedremo che le scommesse le facevano anche gli antichi greci, gli antichi romani. Tutte le stesse problematiche nel bene e nel male del mercato dello sport di oggi c'erano anche duemila anni fa. Le cose belle, purtroppo a certe volte anche le cose meno belle, non sono cambiate nella sostanza. Cambia in modo di vedere le percepire e le rappresentare. Quindi ringrazio Eugenio perché mi ha fatto prendere più coscienza dell'importanza di questa attività che oggi chiamiamo sport e di come sia un argomento ancora di frontiera. Ci sono state delle mostre, dei cataloghi, una molto bella nel 2010 a Mendrisio e vi consiglio per chi voglia approfondire, c'è il catalogo Atleti di Zeus sull'antichità, mostre sull'arte del Novecento e lo sport. Il Coni ha fatto per i cento anni una bella mostra di arte contemporanea per un argomento ancora di frontiera perché fra l'antichità e l'Ottocento-Novecento ci sono più di mille anni. E quindi cosa è successo? Per mille anni non hanno fatto sport? No. L'altra cosa che mi ha stuzzicato della tua idea di fare arte e sport è appunto la parola. La parola sport nasce da Thomas Arnold, inglese, nel 1828. Thomas Arnold, preside del college di rugby. E nel settecento c'era stato il conte di derby. Vedete che anche nelle parole, chi l'ha organizzato un po' prima lo sport, ma c'è anche in Italia, non è che non ci fossi gli inglesi, sono stati un po' più anticipatori nell'organizzarlo. E rimasta ancora adesso la parola derby, come rimasta anche la parola sandwich, e la parola sport. Thomas Arnold parla di sport proprio all'inizio dell'Ottocento nella sua volontà educativa nei college inglesi di recuperare gli ideali antichi dello sport, greci e romani. E da dove deriva la parola sport? È una parola inglese? No, è una parola inglese come sponsor, che non è una parola inglese. Cioè deriva dal latino, dal francese, ma poi attraverso il francese dal latino de portare, cioè uscire. Abbandonare per un momento le proprie occupazioni quotidiane, occupazioni e preoccupazioni, uscire di casa, uscire anche dalla città, andare all'aria aperta e dedicarsi a un qualcosa che, oltre a far bene, diverte, piace. Questa idea però contiene già un minus, cioè per gli antichi questa sarebbe stata un'idea di sport già un po' decadente, perché ci mette un concetto un po' di divertimento. Non che non si divertissero gli antichi a fare lo sport, però in questa idea di staccare la spina, di fare sport nel tempo libero, è un'idea moderna che ahimè nasce dopo la rivoluzione industriale. Prima lavoravano, ma non c'erano degli orari precisi, quindi non c'era una netta distinzione fra tempo lavorativo e tempo che chiamiamo oggi libero. Lavoravano magari anche più di noi come orario e come durezza di lavoro, però c'era un tempo scandito dalle feste religiose, dalle stagioni, dai cicli della natura. E con la rivoluzione industriale, l'illuminismo, la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese, quindi con l'Ottocento non a caso che la società inizia a organizzarsi un po' di più, a standardizzarsi e quindi c'è il discorso non di cosa fare nel tempo libero, ma di organizzare un po' meglio anche il divertimento. Ragionando su arte e sport, mi sono chiesto, ma lasciando stare le parole, sappiamo di cosa parliamo, fra di voi ci sono molti sportivi che lo conoscono molto meglio di me, questa attività dove noi mettiamo noi stessi, prima anticamente non c'era nemmeno la distinzione netta fra professionale e direttante, anche questa è una distinzione ottocentesca che mutua un po' la divisione dei lavori e i concetti professionali di economia, ma che caratteristiche ha questa attività? Qual è la sua struttura? Ha una struttura spirituale, logica? Io ho provato a distinguere tre categorie, tre dimensioni, che ci sono sempre esistite e sempre esisteranno. Il gioco, e non è un qualcosa di meno importante, perché il gioco, come dice anche spesso Roberto Benigno, è una cosa serissima, una cosa spirituale importantissima. L'esercizio, l'impegno, la parola greca aschesis, da cui ascesi, vuol dire esercizio, quindi la parola che indica lo sviluppo spirituale dell'anima deriva dall'esercizio e dall'esercizio del corpo. Vedete l'importanza dei termini sportivi che diventano poi metaforici. Gioco, esercizio e rito sociale, esibizione, manifestazione, spettacolo. Queste tre componenti ci sono sempre state nello sport antico e ci sono anche adesso. Anzi, come dicevo prima Eugenio, quando la società era organica, quindi prima della rivoluzione francese, magari era meno organizzato, magari certi sport sono scomparsi poi, come anche certi giochi di carte, prima avevano 300 variazioni del calcio, adesso abbiamo una, però era più sentito. Magari era giocato solo a carnevale in certi giochi, però c'era veramente una partecipazione, la vedremo da certi quadri, di tutta la città, di tutta l'anima delle persone. Quindi è ancora più importante sotto certi profili rispetto ad oggi. Per entrare più nel vivo iniziamo subito a vedere alcune immagini, perché lo sport, come l'arte, ha una capacità comunicativa fenomenale, riesce a sintetizzare in poche parole, in pochi tratti, discorsi lunghissimi. Da dove iniziamo? È un discorso immenso, gli dico, ma sarò sintetico e cercherò di annoiarvi. Tutti gli studiosi, ma chiunque di noi, se ci riflette un attimo, dice, ma quando inizia lo sport? Quando inizia l'arte? Quando inizia la storia? Quando inizia la storia? Quando si passa dalla storia alla storia? Cioè quando si inizia una rappresentazione estetica, le pieture rupestri, che è anche sociale, voi mi dite, è la caccia, certo, non è uno sport come concepiamo adesso, ma anche la caccia è stata importantissima. inizia come lotta per la sopravvivenza, ma poi si sviluppa, si raffina, iniziano ad usarsi delle astuzie, si moltiplicano i tipi di caccia. Quando il giovane non è ancora pronto per andare a caccia, si allena per la caccia. E vedete che è un fattore di progresso per la civiltà fondamentale. E non c'è distinzione tra l'aspetto spirituale, culturale o l'aspetto fisico, perché nelle società organiche ogni cosa era rito, ogni cosa aveva un aspetto sacrale. Quindi proprio le pieture rupestrici dicono che sia l'arte che lo sport sono agli albori della civiltà e sono uniti strettamente insieme. Guardate che belli, sembrano quasi moderni, sono pitture primitive, ma hanno una finezza, hanno una sensibilità. E quindi inizia la storia, perché la storia è fatta di documenti, questo è un documento. Naturalmente la nostra civiltà deriva dalla città greco-romana, la cultura occidentale. Potevo dire anche qualcosa sugli egizi, ma conoscevano anche loro delle discipline, la corsa, la lotta, il pugilato, il tiro con l'arco, come i greci. Anzi l'Egitto influenza molto la Grecia, ma noi dobbiamo fare un volo d'uccello, una sintesi. Quindi andiamo sugli esempi più famosi. L'ideale sportivo per eccedenza è quello greco. Per noi occidentali. A sua volta è influenzato da Creta. La tauromachia di Creta è un qualcosa che si fa ancora adesso nei paesi della Camargue, a San Marisulamere e nei paesi baschi, sia francesi che spagnoli. Quindi è un qualcosa antico quanto l'uomo il gioco con i torri. Guardate che livello di atletismo, naturalmente inserito in un rito religioso, che è anche una festa di popolo. Quindi come dico, l'antico non fa una distinzione per compartimenti stagni, come facciamo purtroppo noi moderni in modo fine esagerato. Lo sport ha poi un'importanza tale, presso i greci, da diventare persino gadget, da influenzare tutte le arti. Tutte le arti sono al servizio di quello che è l'attività agonistica, l'attività ginnica, eroica, considerata come un valore eroico. Persino nelle gemme, nei sigilli, vedete queste quattro quadrighe bellissime, anche le divinità lottano e combattono, anche gli dèi dell'Olimpo, anche quelli che erano una volta, adesso chiamiamo angeli, erano dei semidei. Oppure qui c'è una lotta fra due esseri alati, potrebbe essere Eros e Anteros, l'innamoramento e l'amore, che è una delle allegorie amate molto nel mondo greco-romano. Uno degli esempi più famosi, più raffinati, è certamente la riga di Delphi, il vincitore delle gare aveva diritto a una statua, quindi qua è il tiranno di Gela, che offre a Delphi, una statua che viene fatta sia nel luogo della vittoria che nel luogo di origine dell'atleta, offre a Delphi la statua per ricordare che il suo atleta, il suo riga, ha vinto. E avevano questo vestito lungo e particolare. La Corsa Ecolcaria era tipica dei ceti aristocratici, che vediamo fra poco anche nell'Iliade, era molto importante. Fino all'impero bizantino fu importantissimo. Tutta l'apertura vascolare, le corse, tutte le gare sono importantissime. Il pentadono antico, che troviamo addirittura nell'Iliade, è questo qua. Lancio col disco, lancio col giavellotto, lancio del peso, corsa e lotta. Se si vincevano le prime tre gare non si passava neanche alle seconde. Se uno non vinceva le prime tre, faceva le altre. L'ideale greco è un ideale universale, quindi l'atleta più apprezzato è quello più completo. L'atleta del pentelaton. Odisseo, Ulisse, più ancora che Achille, è l'eroe che è anche atleta. Nell'Iliade, Ulisse dice, dimostra di saper correre, tirare con l'arco, lottare, e si vanta anche di essere pugili. Questo è molto bello, notate questi particolari. Innanzitutto i muscoli, l'attenzione a queste tensioni muscolari della gamba, e poi vediamo, qua a terra, delle cose strane, degli oggetti strani, che sono importanti. Non si sa moltissimo il loro uso, ma erano chiamati Alters, avevano una duplice funzione. Proprio sono gli antenati dei pesi, dei manubri, ma venivano anche usati per agganciare l'asta nel salto in lungo. Il salto in lungo aveva una pedana oppure una specie di ostacolo. Non c'era proprio il salto d'ostacoli, ma c'era un ostacolo. Per cui loro si agganciavano con questi attrezzi sulla sbarra e poi si lanciavano in avanti. Questo, alla destra, è il giudice di gara, sul traguardo. La corsa con le fiaccole, anche questo è un miscuglio di festa religiosa, rito e attività sportiva. Ginnastica, che deriva da Giuminos, nudo, venivano sempre fatti nudi queste attività. Perché? Per varie ragioni. Non solo per non far partecipare le donne, perché in realtà a Sparta anche le donne avevano le gare, cosa criticata in modo moralistico dagli altri greci. C'erano tantissime feste religiose, ad esempio a Sparta, le Giacinzie, in onore di Giacinto, le feste Carnei, in onore di Apollo Carneo, le Gimnopedi, dove c'erano corsi degli atleti, dei ragazzi, dei giovani nudi. Beh, è un discorso di proprio atletismo, ma anche di bellezza estetica. Il greco, a differenza del romano, apprezza il corpo come, è il corpo ben proporzionato, come ideale di armonia, di saggezza e proprio quell'ideale del calos carregazos, cioè la virtù dell'anima non può essere disgiunta dalla virtù del corpo. In una certa misura, anche nel latino, virtus diventa, dopo virtù, ma è proprio la forza, la valenza fisica, la parola, l'etimologia originale. Notate questa, interessante questo piattino per non bruciarsi che c'è alla base di queste fiaccole, che diventava anche un po' una corsa staffette con le fiaccole. Questa è una stella interessante, dove abbiamo un discobolo, abbiamo però anche dei giavellotti, qua a sinistra, e ingrandendo si vede la tecnica del giavellotto antico, che aveva qua dei nastri di cuoio, per cui si mettevano le dita nelle asole di cuoio, per dare più forza e slancio allo strumento. E abbiamo questi altri strumenti importantissimi, gli strigili, siccome quando facevano queste attività si frizionavano prima il corpo di olio, per un discorso anche qua igienico, ma anche di profumo, un discorso anche estetico, cioè di scintillare sotto il sole grazie all'olio, con la polvere ci si sporcava, per cui alla fine della gara si usavano questi attrezzi di curvi di metallo o di legno per detergere il corpo prima e poi dopo per lavarsi. Questo è un altro esempio di divinità che lottano, abbiamo un satiro e un ero, che combattono con la tipica presa sugli avambracci, tipica della lotta antica. E poi questo è un capolavoro al Museo di Atene, dell'età allenistica, guardate i muscoli del muso del cavallo con le vene, sembra un'opera dell'Ottocento, del Novecento, invece un'opera del III secolo a.C., il Fantino di Capo Artemisio. Qui forse fin troppo giovane, ma chiaramente usavano senza sella dei ragazzi molto giovani. E il realismo dell'arte allenistica, un'opera veramente fenomenale. Qui abbiamo i simboli della vittoria, che non erano solo la corona, ma anche questo nastro, questo nastro che veniva poi legato sulla fronte. Adesso ci sembra tutto bianco, in realtà le statue, ma anche i vasi erano più colorati in origine. Il nastro era rosso, il nastro della vittoria. Noi pensiamo che la grecità sia una bellezza diafana, bianca, perché nel Settecento rifacevano bianche di marmo le copie delle statue antiche. In realtà la Grecia antica era un qualcosa di più simile all'India di cento, duecento anni fa. Le statue erano colorate, la pasta vitra e l'avorio degli occhi era proprio per dare l'impressione che fossero vive, con corone di fiori e al collo anche corone. Quindi l'impatto era fenomenale. A Olimpia c'erano cinquecento statue, ancora adesso si trovano quasi duecento piedistali di statue. E il concetto proprio di corona, come sarà nel Medioevo, dei nobili, degli imperatori, deriva proprio dal diadema, si chiamava così. Quello messo la corona degli atleti. Ancora ai tempi di Sant'Agostino, Sant'Agostino si lamenta della superstizione e di molti, anche cristiani, che portavano ancora in tasca la moneta con Alessandro Magno e la fascia da vincitore, ma anche da atleta, attorno alla fonte, come talismano portafortuna. Quindi il concetto di vittoria, tant'è che dedicavano delle statue alate, come la nicche di Samotraccia, era un'entità, quasi una dea proprio, era qualcosa di sentito. La gloria dell'atleta è molto simile alla gloria dell'eroe, alla gloria del guerriero. L'atleta si divinizzava, adesso vi dirò due cose su Olimpia, ed era qualcosa che noi stentiamo a capire, tanto era sentito, tanto che era grandioso quest'ideale che oggi chiamiamo sportivo. Finiamo questa carrellata che è molto bella, questa è una tipica presa di lotta. La lotta, il pancrazio, ogni colpo era ammesso, tranne il graffiare, il mordere, e mettere le dita negli occhi, perché erano atteggiamenti consigliati da donne, non certamente da etica agonistica, ma tutto il resto era permesso. Anche queste statuette, avevano così successo queste gare, che c'erano, oggi chiameremo gadget, diremmo marketing, ma venivano rappresentati gli atleti in ogni modo, sui vasi, nelle statue, nei dipinti, nei mosaici, nelle statuette anche da tenere in casa. Questa presa bellissima, vedete che è qualcosa di estremamente realistico e ancora attuale. Col braccio sinistro blocca il braccio sinistro dell'avversario, col destro li torce il braccio e lo piega verso il vaso, e con la gamba si avviluppa la gamba dell'avversario e lo tiene bloccato, fenomenale. Questo è un vaso importante come mito, ci racconta le origini antichissime di Olimpia, prima ancora della prima Olimpia, da dove deriva Olimpia? Per tradizione deriva da Eracle, cioè Ercole, che crea il primo stadio. Lo stadio era quasi 200 metri, 600 piedi, e a Olimpia il piede era quello di Eracle, cioè l'eroe che era il modello di ogni atleta, di ogni eroe, figlio di Zeus, in onore del padre istituisce questa gara. Quindi era anche qua un qualcosa non solo per esibire se stesso, ma per fare un omaggio agli dèi. Ogni gara era preceduta dal sacrificio degli dèi, e poi i vincitori olimpici facevano un corteo, in onore di Zeus e di Eracle, cantando anche. C'era tutta una ritualità. La stessa parola agonistica deriva da agon, greco. Agon è la lotta, ma è anche un luogo dove ci si raduna, ci si trova insieme, e di solito di fronte al Tempio. Quindi potrebbe voler dire assemblea, festa, ma potrebbe voler dire anche gara. Quindi la prima corsa più importante di Olimpia era lo stadio. Cosa c'entra questa scena mitologica? C'entra perché prima questo mito è il mito di Enomao. Enomao è re di Pisa, una città greca vicino ad Olimpia, e non voleva far sposare la figlia, questo ci racconta il mito greco. E allora, probabilmente non sappiamo perché, probabilmente è un discorso anche politico, le gare servivano anche a evitare le guerre. È uno strumento di buon governo. Se io sono re di una zona magari strategica, come vicino ad Olimpia, che si affaccia vicino all'Istmo, ma anche al mare, verso la Magna Grecia, e più pretendenti di regni vicini mi chiedono a mia figlia, mi creano dei problemi. Allora, questa è una spiegazione, diciamo, più razionale. Il mito antichissimo di Enomao dice che lui, chi voleva sposare la figlia, doveva vincerlo nella gara con i carri. Lui però aveva i cavalli di Ares, il dio della guerra, quindi più veloci del vento. Aveva come arruiga Mirtilo, figlio di Hermes, Hermes è il patrono di tutte le gare, e quindi gli lasciava anche andare avanti. Poi arrivava dietro, gli uccideva col giavellotto, li decapitava e metteva le teste sugli spalti. Quindi è una Grecia molto arcaica, dove la gara e la lotta è vicino al sacrificio umano, sugli ultimi ricordi del sacrificio umano. Arriva Pelope, importantissimo perché dà il nome al Peloponneso, si innamora di Ipodamia, la figlia di Enomao, si mette d'accordo con Mirtilo, anche lui innamorato di Ipodamia, sabotano il carro di Enomao, ci mettono un mozzo di cera, lui viene trascinato dai cavalli, mentre sta per morire, poi muore, Mirtilo, maledice Mirtilo. Perché è importante questo per la storia, quello che noi diciamo adesso mito, ma era quello che credevano gli antichi, quindi la storia della Grecia antica. Perché poi Mirtilo a un certo punto dice, beh, Pelope, mi hai promesso lo Ius Primenoctis con Ipodamia, adesso voglio unirmi con Ipodamia. Pelope lo butta giù da una scogliera, mentre sta cadendo Mirtilo, maledice Pelope. Questa maledizione verrà pagata da Agamennone, ucciso da Cliptennestra, perché i discendenti di Pelope sono i re di Argo e di Tirinto di Micene, quindi Agamennone e Menelao. Menelao si salva perché sua moglie Elena è sacra, quindi è protetto dalla donna, ma invece Agamennone verrà ucciso perché questa sfortuna di un maledetto Mirtilo che maledice genera nella concezione greca una cattiva aura, una sventura sulla stirpe che viene poi pagata dalla Nemesi, dalla vendetta, dall'uccisione di Agamennone. Ma cosa ci dice questo vaso? Le gare come gesto di buon governo, come atto sacro. Qua Enomaro, al centro, sta sacrificando a Zeus un capro prima dell'inizio della gara. E qua abbiamo Pelope sul carro Ipodamia che se la sta già portando via in pratica. Perché? Perché c'era il rito spartano, poi rimase a Sparta, del ratto, della fuitina. Cioè il rito prevedeva che lo sposo rapisse la sposa o la vincesse in una gara. Ulisse, Odisseo, vince Penelope in una gara. Penelope era la cugina di Elena, principessa di Sparta, stirpe sacra, stirpe semidivina, e la vince in una gara di corsa che era considerata un modo per manifestare anche la propria virilità, come anche un modo appunto per evitare guerre e fatricide per le alleanze. Qui abbiamo un bellissimo vaso che ci mostra in modo realistico il pugilato, guardate il sangue che esce dal naso. Alle mani stringevano i cesti, cioè delle strisce di cuoio, certe volte potevano mettere anche delle borchie di bronzo, ma questo più tardi, anticamente erano solo strisce di cuoio. Si colpiva quasi solo al volto e vedete che c'era una scena molto violente, era una gara fatta così e anche l'altro contendente ha dei problemini. La gara più nobile era la corsa dei carri. Questa bellissima tomba della traccia mostra i carri che girano in cerchio. La simbologia della corsa con i carri è bellissima, ve la spiego in due secondi. ho fatto un piccolo... ce la spiega bene Isidoro di Siviglia, uno studioso mediovale. I nobili partecipavano alle gare, soprattutto nella corsa dei carri, in cui c'è l'unica testimonianza di una donna. Il premio andava non a chi guidava il carro, ma al proprietario dei cavalli. Callimaco ci parla di Berenice, regina di Egitto, che vince a Olimpia perché ha portato lei il cavallo. Cosa c'è di bello in questa spiritualità antica della corsa con i carri? Questo è il circo. L'ippodromo poi diventa il circo con i latini. Isidoro di Siviglia, autore medioevale, quindi mille anni dopo, ma che ci racconta, in questo libro che si chiama L'etimologia, che è una specie di enciclopedia anteliteram, ci racconta i giochi antichi come fossero ancora lui contemporanei. C'è ancora un ricordo così vivo di questa grandezza che lui nell'anno 1000 ci parla ancora di questi giochi. I giochi ci dice erano dedicati al dio sole e infatti al centro dell'ippodromo c'è l'obelisco con sopra una fiammella che indica il sole a mezzogiorno. Ci sono le mete, che sono questi coni di pietra alti due metri, ormai rarissimi, se ne è conservata uno che è esposta alla mostra di Mendrisi nel 2010. Le mete sono il sole che sorge, il sole che tramonta. Ci sono poi dei braceri, delle statue dentro la spina che è questa striscia a cui attorno girano i cari per vincere e ci sono qualche volta le uova, questi disegni che ho fatto io, perché le uova ricordano Castori e Polluce, i due gemelli. Castori, patrono dei cavalieri, dei giochi equestri e Polluce del pugilato. Perché sono interessanti? Perché Castori e Polluce si alternavano. Uno stava nell'oltretomba, uno sulla terra un giorno. Di notte l'altro veniva sulla terra e l'altro tornava nell'oltretomba. È molto interessante. Sono dei semi-dei atletici. Era bellissimo perché quanti giri dovevano fare attorno alla meta i cari? Sette giri come i sette pianeti come i sette giorni della settimana. E quali erano le squadre? Avevano dei colori. Questo è l'unico gioco veramente di squadro che inizia dagli antichi greci, continua con i romani e arriva fino a Giustiniano, fino al Medioevo. Quindi un successo incredibile della corsa con i cari. I colori delle squadre erano il rosso, cioè il fuoco, l'azzurro l'acqua, il bianco l'aria e il verde la terra. I quattro elementi. Quindi è una visione del cosmo bellissima. Abbiamo i quattro elementi che ruotano attorno al sole per sette volte. È come se questa gara ci facesse vedere come si è creato l'universo. È una cosa veramente meravigliosa. E poi c'erano i cancelli da Oriente e Occidente. Entravano i cavalli e poi uscivano. Come è entrata e l'uscita nella vita. La meta poi era importante e infatti poi diventa un termine metaforico. Giungere alla meta perché la meta era pericolosa. Infatti nell'Odissea il saggio Nestore dice al figlio stai attento che tu hai dei cavalli che non vanno tanto bene ma devi usare l'astuzia. Quando arrivi vicino alla meta devi girare e dire vacci vicino sta attento a non darci sbattere contro. Piegati sulla sinistra frusta di più il cavallo di destra tieni bene le redini e se riesci a passare più stretto vai in vantaggio e non ti prendono più. Però spesso ci si sfracellava contro. I carri si scontravano fra di loro e si poteva morire quindi anche il termine meta diventa veramente poi col cristianesimo diventa una metafora della vita e della morte e dei traguardi che dobbiamo affrontare delle lotte che dobbiamo affrontare nella vita. Quindi la corso e coricare è veramente qualcosa di meraviglioso. Costantino abolisce i giochi dei gladiatori ad esempio ma nella nuova Roma quella che sarà chiamata a Costantinopoli costruisce un immenso ippodromo che ci sono ancora i resti adesso a Istanbul col palazzo imperiale che si affaccia sull'ippodromo. Addirittura nel 380 c'è Teodosio quello che abolisce poi le Olimpiadi e succede una rivolta partendo dall'ippodromo di Tessalonica. Cioè erano così partecipati i giochi della corsa coicare che assumono un valore politico. Teodosio faccio questo salto temporale perché stiamo parlando della corsa coicare Teodosio in un periodo di crisi ormai ci sono pochi romani fra i soldati sono quasi tutti barbari ci sono invasioni barbariche lui fa entrare molti barbari nell'esercito ed ha anche libertà di movimento ai lavoratori oggi diremmo stranieri all'immigrazione. Tessalonica è una città in crisi ci sono tante tasse arrivano queste persone da fuori sembra parlare di tempi adesso quindi ci sono fenomeni di intolleranza verso gli immigrati cosa succede? Succede che la goccia che fa traboccare il vado scopre una grande rivolta è legata alla corsa coicare perché un Auriga famoso cerca di sedurre il servo del Magister Militum cioè del governatore di Tessalonica ma anche del governatore di tutti i Balcani della Grecia che aveva sede a Tessalonica lui per difendere l'onore della sua casata del suo ruolo fa restare l'Auriga la popolazione chiede la liberazione dell'Auriga perché fra poco ci sono i giochi lui sospende i giochi la città si ribella e impicca il governatore romano imperiale di tutti i Balcani Teodosio da Milano in un eccesso di ira non sappiamo poi com'è andata veramente insomma fanno entrare la popolazione nello stadio ne uccidono 7000 punizione esemplare perché aveva paura che poi si diffondesse ulteriori diserzioni dall'esercito se fu ucciso il magistrato militare vuol dire che anche dei soldati disertarono non a caso siamo nel 380 393 chiuse le olimpiadi già in declino ma il potere aveva quasi paura a un certo punto Teodosio gli sfugge di mano il successo dei giochi potrebbe avere anche un valore politico qualche anno dopo un'altra rivolta ancora peggio 532 sotto Giustiniano imperatore bravo saggio importante ci ha lasciato le leggi il codice Giustiniano però gestisce male i giochi e rischia di perdere il trono per colpa di una non buona amministrazione dei giochi perché lui da giovane parteggiava per i verdi la squadra dei verdi degli aurighi delle quadriglie delle corse coicari nella maturità è più simpatizzante degli azzurri ma l'imperatore deve dimestrarsi al di sopra delle parti le leggi sulle violenze negli ipodromi erano molto severe perché la corsa coicari piaceva così tanto a Costantinopoli che si ammazzavano oltre a scommettere c'erano proprio delle risse delle rappresaglie delle guerre fra clan fra bande fra associazioni cosa succede? succede semplicemente che il stufo di queste violenze fa arrestare i capi dei verdi i capi delle associazioni sportive dei verdi e degli azzurri li condanna a morte Giustiniano questi si salvano miracolosamente magari fanno scappare la coda si spezza la coda è in piccagione e si rifugiano in una chiesa c'è il diritto d'asilo e stanno nascosti in chiesa la popolazione chiede ormai la clemenza se non sono riusciti a uccidere per in piccagione vuol dire che il cielo vuole che siano salvati Giustiniano liberali Giustiniano non risponde nel 532 dall'ipodomo di Costantinopoli c'è una ribellione contro l'imperatore chiamata la ribellione del Nica grido di battaglia Nica cioè vinci quindi un grido atletico che diventa un grido pulito cioè un imperatore come Giustiniano considerato in un'area sacra perché l'imperatore allora rappresentava Dio in terra non solo gli imperatori di Bisanzio non avevano bisogno di essere consacrati dal Papa o dai Vescovi nascevano sacri secondo la concezione dell'ora chiamati profirogeniti nascevano dalla porpora erano i diretti discendenti degli imperatori romani con in più l'aura di sacralità del cristianesimo nonostante questo fede politica fede sportiva messe insieme la gente la popolazione di Costantinopoli si ribella e vuole mettere un altro imperatore al posto di Giustiniano lui sta quasi per scappare la moglie di Teodoro gli dice no io non vado via da Costantinopoli morirò imperatrice fu più coraggiosa lei di suo marito poi Giustiniano con la furbizia tipica dei bizantini corrompe la fazione degli azzurri estermina gli altri e mette a progetto 30.000 morti prima 7.000 adesso 30.000 morti ma questi episodi sono importanti perché ci fanno capire con che anche fanatismo ma con che passione allora avevano per queste discipline ancora più della nostra noi diciamo gli eccessi adesso degli stadi ma prima era peggio guardate che migliaia di morti in conseguenza non solo di quello chiaramente ma la goccia che fece traboccare il vaso fu proprio la passione per le corse coi carri anche qua delle statuette bellissime che ci dimostrano che l'arte e lo sport vengono declinati in qualsiasi modo addirittura qua la statuetta di una tuffatrice qua abbiamo questa evoluzione questo ponte è il manico di un anforo o di un urna fatto ah scusate ecco vedete questa tuffatrice questo atleta che fa questo ponte ed è un manico di un urna e la diffusa anche presso gli etruschi e questo bellissimo ribaltamento nella lotta che troviamo anche fra gli etruschi vedremo fra poco questo può essere Apollo può essere non ci interessa chi sia ci interessa il diadema della vittoria e questa posizione che adesso sembra malinconica ma non era considerata allora tale che tipica dell'eroe sarà preso anche nelle statue di Alessandro Magno il famoso Zeus di Capo Artemisio è un Zeus atletico basta vedere gli addominali e la posizione del lancio del giavellotto della lancia è veramente fenomenale quindi gli ideali dell'atleta per i greci era un ideale che valorizzava l'estetica la bellezza del corpo l'armonia e l'atleta era diventava simile agli dei cioè adesso noi ci i cortei col punna che fanno i vincitori dei mondiali quando tornano in patria quello è un ultimo ricordo dei cortei trionfali ma allora fanno ridere in confronto alle feste che facevano allora ci fu un vincitore olimpico che in Sicilia gli fecero per 50 km un corteo per accompagnarlo a casa sua di 300 carri quindi con 600 cavalli bianchi con le persone che lanciavano ai lati di questi 50 km fiori cappelli come adesso potrebbero essere i coriandoli quindi erano dei festeggiamenti che noi nemmeno ci immaginiamo qual è il rapporto fa arte e sport a Olimpia non c'era solo Olimpia c'erano i giochi delfici a Delphi ptc a Delphi dove la corona era di Lauro c'erano anche gare di musica a Delphi perché era il santuario di Apollo e delle muse i giochi istmici a Corinto lì la corona era di Pino i giochi in Emei dove la corona era di Sedano ogni grande santuario ogni grande città della Grecia aveva dei giochi ogni anno non c'era solo il premio della corona quello è un premio simbolico molto importante però certe volte nel quinto secolo gli atleti sono già tutti professionisti quindi venivano pagati all'ingaggio e avevano dei premi poi a ritorno in patria ad esempio ad Atene venivano pagati dai 500 ma anche ai 1000 2000 3000 dracme cioè venivano pagati con lo stipendio siamo arrivati il massimo che fu pagato un atleta per l'ingaggio era 100 stipendi cioè lo stipendio che prende un artigiano in un anno moltiplicato per 100 i vincitori venivano mantenuti vita naturale durante dallo Stato mangiavano gratis posti nei teatri non solo avevano spianata ad Atene a Sparta dappertutto la carriera militare e la carriera dalle magistrature i re spartani andavano in combattimento a suon di musica con a fianco i campioni olimpici e gli spartani sacrificavano le muse prima di andare in combattimento non solo perché poi danzavano gareggiavano e combattevano a suon di musica ma perché qual era la preoccupazione del greco non era solo conquistare la gloria nel combattimento e conquistare la gloria nelle gare era che ci fosse qualcuno che la raccontasse questa gloria che la cantasse che il nome rimanesse nei secoli quindi sacrifichiamo le muse così poi ispireranno dei poeti a cantare le nostre geste quindi era veramente un mondo meraviglioso se pensiamo che Platone giovane atleta da giovane combatte Pugilato e lotta ad Elfi e nei giochi di Corinto persino Euripide il tragediografo combatte anche lui nelle gare di Pugilato e lotta ad Atene e a Eleusi alto grande santuario cosa succedeva ad Olimpia che era la gara più importante ma non era l'unica abbiamo detto e Olimpia era importante perché tutti i greci si radunavano Olimpia perché c'era il tempio di Zeus quindi le gare le uniche gare che univano tutti i greci e altre gare riunivano non so le Panathenai che ci andavano solo gli Atenesi e quelli del Contado in Olimpia gli atleti poi giravano i vari santuari e le varie gare ma soprattutto ad Olimpia si riunivano tutti i greci succedeva che potevi trovare un erodoto che leggeva le sue storie in pubblico succedeva che potrebbe trovare degli artisti che gareggiassero non solo gli atleti anche gli artisti gareggiavano quindi il rapporto fa arte e sport era così stretto che non si distingueva neanche non solo l'atleta meritava una statua e un dipinto anche magari una statua che rimaneva lì a Olimpia vicino alle statue degli dei vicino alle statue degli eroi e lo stadio abbiamo detto che è un luogo sacro vicino al tempio di Zeus ma c'erano appunto gare fra artisti gare musicali gare fra pittori e lo stesso contesto dei giochi era così importante come Cassa di Risonanza che i filosofi i commediografi i pittori i danzatori i pittori musicisti andavano lì per far conoscere le loro nuove creazioni non c'era la televisione l'Hollywood della Grecia era Olimpia Luciano fa quasi un po' tenerezza quando ha raccontato di Erodoto che ha scritto il più famoso e antico storico della Grecia storie poi piene di mito di leggende comunque storico e lui diceva come faccio a far conoscere le mie storie vado ad Olimpia e le leggo in pubblico perché sennò devo fare il giro di tutta la Grecia vado ad Olimpia a Olimpia c'è tutta la Grecia e sono posto addirittura la competizione era così forte il senso di competizione dei greci che anche i vasai ci fu una volta un vasaglio che scrisse sul vaso questo vaso l'ho fatto io quell'altro non riuscirebbe a farlo mettendo il nome del rivale quindi gareggiavano anche gli artigiani però è un agonismo un po' diverso dal nostro perché non era solo il valore individuale l'agonismo greco era individuale non c'era gioco di squadra i romani saranno diversi non era solo l'agonismo individuale ma il vincitore diventava simile ai dei ma dava gloria e onore anche alla sua città anche al suo stato anche alla sua stirpe quindi era individuale ma allo stesso tempo comunitario ad esempio gli spartani non uscivano mai da Sparta dalla Lacogna uscivano solo per andare a Delphi cioè all'oracolo ma anche i giochi o ad Olimpia e per loro Sparta è una società basata sull'atletica potremmo dire basata ed è l'unica che faceva anche allenare le donne mezze nude anche loro faceva partecipare alle donne faceva dei giochi anche riservati alle donne delle feste riservate alle donne leggiamo brevemente qualche pezzo interessante ad esempio una citazione veloce di Omero abbiamo citato prima il canto ventitresimo dell'Iliade che ha 24 canti un intero canto è tutto dedicato ai giochi i giochi in onore della morte di Patroclo Achille il cugino Patroclo nobile viene ucciso da Ettore appena spengono col vino le ceneri ancora fumanti del rogo dove Achille uccide 12 troiani quindi anche qua gli ultimi sacrifici umani e i giochi collegati al culto dei defunti come rito sacro si pensava che i morti quelli ovviamente importanti nobili potessero non tanto stare meglio nell'aldilà ma insomma andava fatto portava bene a tutti fare dei giochi in loro onore e ahimè nell'epoca più arcaica di cui c'è ancora traccia in Lidia anche fare dei sacrifici umani appena spento il rogo di Patroclo e fatto un piccolo tumulo subito Achille cosa fa? tira fuori non andate via mettetevi in cerchio tira fuori i doni una schiava un vitello delle armi un tripode dorato e dice adesso gareggiamo era normale e fanno tante gare la corsa con i carri il pugilato la lotta la corsa dove vince Ulisse il duello il lancio del disco tiro con l'arco e il lancio del giavellotto quindi c'è tutto il pentatron pentatron e in più il tiro con l'arco e quindi è molto interessante perché si vede anche la saggezza di Achille che non era il capo di tutti perché era Gamènon ma era un capo importante allora si vede la sua saggezza nel distribuire i premi a chi se lo merita ad esempio Antiloco il figlio di Nestore taglia la strada col carro a Menelao esce fuori di pista gli taglia la strada Menelao dice prima che facesse questa mossa gli dice fammi passare a me poi la strada si allarga e mi superi dopo invece Antiloco fa un po' il furbo e arriva primo Menelao si lamenta e più anziano e più importante lo sfida di fronte a tutti ti giura che non hai commesso una scorrettezza lui dice no, sono stato scorretto Menelao si commuove e gli riconsegna il primo premio perché il codice d'onore è salvo è stato scorretto prima ma lo ha messo di fronte a tutti avanza un premio e Achille lo dà a Nestore che è anziano e non può più partecipare alle gare ma fu un grande atleta e un grande guerriero quindi anche la saggezza quasi eroi che hanno squartato 50, 100, 1000 avversari poche settimane prima che si commuovono per un gesto di delicatezza perché c'è un codice d'onore la stessa fratellanza che si forma nei campi di battaglia è la fratellanza fra gli atleti e sarà poi nel medioevo la fratellanza fra i cavalieri lo vediamo fra poco quindi se leggete il canto ventitresimo dell'Iliade è veramente fenomenale ma l'Odissea il vero poema degli atleti è l'Odissea perché c'è Odisseo che naufraga nella terra dei Feaci dopo che ha lasciato Calipso si spezia fa naufragio e Nausica la principessa e le amiche giocano a palla sulla spiaggia poi Odisseo si riprende è passato appena un giorno o due si è ripreso da un naufragio terribile e subito fanno un banchetto in suo onore perché l'ospite è sacro ma i Feaci non lo conoscono come fanno a conoscere Ulisse lo sfidano lo invitano a partecipare a una gara le gare si facevano non solo per il culto dei morti ma anche per festeggiare un evento importante l'arrivo di un ospite di riguardo una vittoria sui nemici un matrimonio in una città importante e Ulisse all'inizio dice ma veramente mi sono appena ripreso dal naufragio grazie non partecipo allora lo prendono in giro ah tu sei un marinaio non sei capace se sei sempre sulle navi non sei capace a gareggiare allora aiutato da Atena Ulisse si toglie il mantello arrabbiato prende il disco più pesante di quelli che usavano i Feaci in quel momento e lo lancia più lontano di tutti addirittura Atena si fa si appare come giudice di gara in fondo dicendo si si hai vinto hai superato tutti i Feaci e Ulisse sfida i Feaci le altre gare dai adesso giochiamo pugilato facciamo la lotta io so anche tirare con l'arco e il re dei Feaci dice no no guarda noi siamo bravi solo a correre il resto non siamo capaci abbiamo capito che sei un in gamba vabbè quindi serviva anche per mettere alla prova l'ospite oltre che per manifestare la propria potenza la propria gloria finché Ulisse è tornato a casa e dicesse guardate che dai Feaci sono in gamba ma abbiamo altri due episodi importanti nell'Odissea la lotta fra Odisseo e Iro scusate la remoscia Iro era il mendicante che c'era alla corte di Penelope quando c'erano i proci occupati dai pretendenti lui arriva vestito da mendicante viene subito sfidato dice oh qui ci sono già io dice io che mangio a ufo vattene via lui lo sfida ed è molto bello perché Iro pensa che questo sia una mezza calzetta si toglie i vestiti cenciosi anzi dice l'Odissea scopre le cosce alla vista delle cosce atletiche di Ulisse Iro diventa pallido e i proci lo prendono in giro Ulisse dice giuratemi che non mi date colpi bassi va bene gara leale e era così bravo nella box nella lotta Ulisse che dice l'Odissea dentro di lui pensa lo colpisco subito l'ammazzo o lo colpisco un po' meno forte no lo colpisco un po' meno forte se no i proci capiscono che non sono un medicante ma sono un po' troppo un guerriero allora gli da un colpo secco sotto l'orecchio e lo stende alla faccia del colpo leggero lo stende addirittura gli incrina dalle ossa c'è una scena realistica dove Iro perde sangue e scalcia quasi fosse in punto di morire poi non muore e i proci perché onore al vincitore anche se sei un mendicante anche se sei uno sconosciuto hai vinto la lotta quindi i budelli col sanguinaccio il piatto prelibato te lo diamo e addirittura noi principi brindiamo in tuo onore e diciamo che adesso stai qua con noi vinto il loggio sicurato perché hai vinto nella lotta e l'ultimo famoso che conosciamo tutti episodio dell'Odissea la gara col tiro con l'arco che Atena ispira a Penelope ma l'annuncia Telemaco e i proci non vogliono partecipare perché dicono beh se poi non riusciamo a tendere l'arco di Ulisse addirittura poi non vogliono che un mendicante anche se dice di essere di nobili natali partecipi come principi come partecipi alla gara ma Penelope e Telemaco intervengono state tranquilli che anche se vince non mi sposa mettiamo altri premi per lui mettiamo dei vestiti delle spade lui riesce a tendere un arco che gli altri neppure riuscivano a tendere ma perché? perché è un arco fatto di corna da rieti c'era tutta una tecnica doveva essere scaldato unto col grasso e c'era una tecnica per tenderlo e riesce a passare i 12 anelli dentro le 12 scure il 12 la simbologia cosmica come abbiamo visto nella corsa dei carri qui c'è una spiritualità dei simboli spirituali cosmici nei giochi e poi abbiamo visto come finisce finita la gara poi li massacra tutti con la freccia però come aveva vinto Penelope con la corsa qua la deve rivincere rischiando la vita col tiro con l'arco quindi Odissee Ulisse artista atleta atleta completo prima di passare ai romani perché vi leggo solo proprio due brevissime note una bellissima nota di Luciano grande scrittore siamo ormai c'è l'impero romano lui è siriano però esalta Luciano anche lui i giochi e immagina un dialogo fra Solone il legislatore di Atene e un principe scita un principe barbaro della Crimea gli dice ma tu non puoi renderti conto cosa sono le gare se non vieni a vederle non puoi capirle gli dice non con le parole ti si potrebbe convincere del piacere che procurano le cose che si fanno lì nello stadio ma bisogna che tu guardi seduto in mezzo agli spettatori le prodezze di quegli uomini la bellezza dei corpi la robustezza mirabile le prove straordinarie il coraggio la forza l'impegno inesauribile profuso per la vittoria sono certo in cui in tal caso tu non cessaresti di lodare applaudire ed acclamare beh questa è una cosa che è molto interessante che si applica anche allo sport di oggi anche l'eneide esalta gli sport addirittura poi c'è Pindaro naturalmente Pindaro fa centinaia di odi di poemi dove l'eroe che viene anche dalla magna grecia e varie olimpiadi viene esaltato come un dio come un mito ma sentite questa poesia che non è di Pindaro dall'alto giu sembra una poesia antica invece Dino Campana uno dei poeti migliori del novecento quindi vedete che si rifà la poesia antica ma sembra Pindaro quindi non è cambiato nulla nelle cose belle la poesia per lo sport c'è sempre stata volevo leggervi qualcosa ma non so se la faccio a volo proprio di Plutarco Plutarco scrive i detti degli spartani se lo trovo i detti degli spartani adesso è pubblicato come il titolo come la virtù di Sparta Plutarco scrive quando ormai ci sono i romani Sparta è un lontano ricordo eppure c'è ancora il mito di Sparta cosa diceva Euripide contro gli spartani Euripide rateniese c'è la guerra fratene Sparta ah neppure se uno lo volesse una fanciulla spartana neppure se lo volesse una fanciulla spartana potrebbe essere casta lasciano la casa insieme ai maschi stanno fra gli stadi e palestre con le cosce nude e il peplo aperto gli altri greci non capivano Sparta o la invidiavano un po' la facevano i moralisti la prendevano in giro in realtà Sparta era l'erede della Grecia più antica dove la donna era più libera perché anche la donna doveva combattere se serviva e quindi facevano gli esercizi e quando gli chiedevano agli spartani perché le fate esercitare le donne beh innanzitutto perché devono mettere al mondo figli sani e soffrire poco durante il parto poi se c'è bisogno combattono anche loro state tranquilli c'è il famoso detto di Gorgo la moglie di Leonida non è a caso che si chiama Gorgo la Gorgone la Medusa quindi la donna doveva far paura la donna spartana donna anche qua la Gorgone è un essere mostruoso ma anche divino un tale dice a Gorgo ma solo voi gli spartani comandate agli uomini prendendolo in giro erano offesa come dire gli spartani che uomini siete vi fate comandare dalla donna e come risponde Gorgo perché solo noi spartane mettiamo al mondo uomini quindi gli uomini veri sono solo gli spartani la bellezza di Sparta del mito di Sparta non è solo il valore in guerra l'atletismo era la saggezza Platone scrive la Repubblica la Repubblica dei filosofi perché guarda come modello Sparta erano considerati filosofi come poi Seneca e Cicerone considerava l'atleta filosofo perché esercitando il corpo cosa si faceva fare una pausa gli spartani mica combatterono tutti i giorni mica poterono allenarsi 24 ore al giorno e c'era la proibizione di fare lavori manuali quindi cosa facevano quello è il mistero di Sparta si dedicavano alla poesia alla musica parlavano così nasce la filosofia da quella saggezza che deriva da chi esercita il corpo e quindi inizia a conoscere se stesso a giudicare bene se stesso e quindi anche gli altri e se sei un campione se devi essere anche un arbitro allora puoi fare anche il magistrato perché chi sa organizzarsi bene nello sport sa anche farlo in battaglia e può governare anche la città quindi c'era anche un mistero di Sparta che questo l'ozio l'ozio dei romani che non era l'ozio che intendiamo noi era quella libertà che avevano gli uomini liberi la libertà di pensare la libertà di giocare nasce a Sparta c'è un episodio in cui uno spartano dice ma ho saputo che ad Atene è stato condannato a una multa una persona perché non aveva occupazione voglio vedere qual è questa persona è stata condannata per il reato di essere libero l'ozio non era concepito da Atene neanche negli altri popoli i primi che concepiscono l'ozio come attività dello spirito che quella dovrebbe essere l'attività principale dell'uomo nobile non solo di sangue in senso spirituale sono gli spartani e poi i romani attenta è che la parola negozio cioè attività negozio come usiamo anche adesso attività commerciale manuale vuol dire nec ozio cioè l'attività normale deve essere l'ozio quindi l'attività spirituale adesso diremo la cultura la vita sociale diremo quando proprio non puoi fare a meno devi abbassarti occuparti interrompere questa attività bella spirituale e fare un po' di nec ozio cioè sospendere la tua attività nobile e fare qualcosa che va fatto di più pratico quindi gli spartani erano famosi non solo per il valore e il coraggio e la professionalità di combattenti perché erano gli unici combattenti i primi combattenti professionisti i primi atleti professionisti ma anche per le loro battute di spirito per questi giochi di parole ad uno che diceva da Gesilao il re di Sparta ma divertiti un po' la vita è breve quante belle giovinezze in parte di Dice rilassati un po' vedati un po' i divertimenti lui dice io mi diverto nel fare a meno dei divertimenti cioè si divertirono delle piccole cose il mito della sobrietà della lucidità che poi diventerà un valore cristiano e prima spartano e prima romano i romani durò di più l'impero romano perché i romani ebbero la genialata di trasformare i soldati in contadini e i contadini in soldati invece il difetto degli spartani che erano solo soldati e atleti e uomini di cultura per cui quando poi dopo un terremoto di Cifro Sparta o le varie battaglie si diminuivano di numero non riuscirono più a tenere proprio fisicamente il loro potere ci sono Plutarco ci racconta varie storie degli spartani c'era il problema anche di chi scattava prima nella gara di corsa per arrivare prima quindi tutto il mondo non è cambiato nulla c'era il problema di deontologia sportiva e molto bello poi una scena in cui all'Olimpia arrivò un anziano trovò tutte le tribune sedute e non poteva sedersi quando si avvicina agli spartani tutti si alzano in piedi e lo fanno sedere lo stadio applaude e il vecchio dice povera Grecia tutti i greci sanno cosa fare ma solo i spartani lo fanno sono belli questi detti se vi capita prendete questo libro La virtù di Sparta di Plutarco edito l'esempio da Delphi perché non è tanto la Grecia vera è più una Grecia del mito però è uno valore in cui loro volevano tendere non è che fossero stati perfetti erano anche crudeli il resto della popolazione era servito però avevano dei valori di libertà di fratellanza veramente interessanti che vengono ripresi nell'Ottocento perché nasce lo sport nell'Ottocento perché c'è più tempo libero e per educare gli inglesi e i tedeschi come facciamo ad educare i nostri giovani in questa nuova società moderna che è quella dell'Ottocento cioè rifacciamo gli ideali degli spartani dei greci ma soprattutto degli spartani ora dobbiamo andare avanti e c'è il cristianesimo qui facciamo una cosa sarebbe anche qua da fare cosa succede? succede che arriva un tale che si chiama San Paolo e San Paolo conosceva bene le gare perché continua a usare metafore sportive nelle sue lettere nessuno è premiato se non gareggia realmente gareggiare voleva dire solo gareggiare nello stadio adesso lo usiamo gareggiare in modo metaforico quindi San Paolo per spiegare il cristianesimo usa l'esempio dello sport amatevi gli uni gli altri e gareggiate nello stimarvi quindi il cristiano deve essere un atleta un atleta la cui meta è però sollevata in cielo ma deve essere un atleta è famosa questa frase ho combattuto la buona battaglia ho terminato la corsa la corsa era solo quella era la corsa agonistica non c'erano altre corse non era la corsa alle cariche pubbliche non era un modo di dire con San Paolo il cristianesimo c'è una rivoluzione culturale e si spiritualizza un linguaggio si interiorizza un modo di fare ma la struttura della fede cristiana e la struttura dello sport sono assolutamente simili perché c'è un inizio uno sveggimento e una fine è la vita inizia si sviluppa poi il cristiano dice guarda che c'è un traguardo anche nell'aldilà la meta diventa iniziare la meta non è più solo la meta il cono di pietra ma diventa un traguardo da conquistare addirittura questa parola slanciandomi in greco in greco è epikteino vuol dire proprio è un termine tecnico sportivo protendersi dei muscoli e lo slanciarsi del corridore e anche stoccheio da quegli stoici vuol dire camminare in linea tutti i termini sportivi che usa San Paolo ma se vogliamo il massimo del misticismo usando il termine sportivo lo abbiamo in Tertulliano che parla a una chiesa perseguitata Tertulliano odia i giochi gladiatori siamo già a Roma quindi c'erano giochi violenti quindi c'è una forte critica dei cristiani dei primi padri della chiesa contro i giochi perché erano dedicati agli dei ed erano anche violenti e nonostante questo Tertulliano che è un moralista e contro i giochi guardate che i vertici di misticismo usando termini tecnici o voi benedetti cioè o voi si rivolge ai cristiani perseguitati sia questa durezza qualunque sia questa durezza cioè le persecuzioni consideratela un esercizio delle virtù dello spirito del corpo siete dovete affrontare un glorioso agone quindi una sfida una gara un combattimento in cui Dio è la gonoteta cioè il giudice di gara la gonoteta è quello che istituiva ai giochi offriva il premio aggiudicava il premio e poi è diventato anche il giudice di gara il sistarca è lo spirito stanzo il sistarca è quello che guidava le gare il sistos è la pista di terra battuta e la corona dei martiri è la corona dell'atleta quindi il cristianesimo prende in prestito dal linguaggio dello sport questi termini Gesù Cristo è l'epistate cioè il maestro del ginnasi cioè è l'allenatore è il maestro e alla fine dice come gli atleti devono fare una vita appunto spartana per vincere così voi dovete sopportare queste persecuzioni è veramente una rivoluzione culturale molto interessante guardate Gregorio di Nissa Shakespeare aveva detto mille anni dopo la vita è un palcoscenico Gregorio di Nissa uno dei padri della chiesa è mille anni prima di Shakespeare dice lo stadio è la vita dice quello che tutti sapevano ma non è mai stato detto quindi la vita è come una gara e San Paolo dirà Cristo è la meta cioè quello che ci aiuta ma va raggiunto come l'obiettivo da raggiungere quindi è veramente una rivoluzione culturale cosa succede che come vi ho detto nel 393 Teodosio chiude i giochi olimpici già in decadenza ci sono invasioni barbariche ci sono ben altri problemi da affrontare e quindi purtroppo finiscono finisce il pentathlon non è che finisce viene comunque un po' abbandonato chi è che salva chi è che salva queste discipline qui abbiamo Teodosio che giudica un premio probabilmente sarà una gara di cavalli su una tribuna come le tribune siamo nel fine 300 dopo Cristo questa scusate che devo fare una carrellata veloce sui romani perché li ho saltati questi sono gli etruschi gli etruschi erano un po' crudeli come tutte le civiltà raffinate ma avevano tutte le cose dei greci guardate questa gara di lotta stupenda al suono del flauto e questo è l'antenato dei giochi gladiatori si chiama Fersu era legato al culto dei morti qui sono le tombe di Tarquinia una persona incappucciata con un bastone e un'altra che gli aizza un cane contro noi adesso ci fa un po' orrore perché siamo stati c'è stato il cristianesimo in realtà allora era una cosa normale anzi era un onore per uno schiavo o un condannato a morte morire così e chi vedeva una scena così rideva si entusiasmava non si impietosiva era una cultura diversa quindi l'antenato dei giochi gladiatori che ai greci non piacqueo mai e i giochi funebri dei gladiatori degli etruschi che però solo i non nobili facevano i giochi era un divertimento per pochi nobili invece Roma lo allargò tutto il popolo scena di lotta a sinistra c'è una persona con un bastone ricurvo e un sacerdote di là c'è una persona con un berretto rosso e legato al culto dei morti anche queste ane i tre osse sono legati al culto dei morti il tuffatore di Tarquinia e il tuffo e il tuffo anche questo è un rito è un rito sacrificale questi pilastri non è un trampolino di lancio sono i pilastri dell'ade i pilastri colonne d'Ercole fra la vita e la morte quindi qui è l'anima che sta andando all'oltre tomba e infatti una pittura sepolcrata c'è un banchetto funebre e poi il tuffatore Plutaco ci racconta che i greci facevano dei voti dei fioretti uno aveva una malattia i problemi voleva avere un successo in un affare commerciale incerto cosa faceva? si buttava da una scogliera non tutti ma c'era anche questa pratica si buttava da una scogliera rischiava di morire però se non moriva vuol dire che gli dei l'avrebbero aiutato Saffo per guarire dalla malattia di amore oggi diremmo la depressione si butta anche lei da una scogliera anche il tuffo che poi diventa atletico ma molto tardi forse la disciplina meno atletica dell'antichità era legata a riti religiosi anche il tuffo la tomba degli Eurighi a Traquigna anche le donne assistevano ai giochi presso gli Etruschi danzano, ballano e corrono con le bighe una carrelata veloce sui romani che differenza c'è tra i giochi romani e quelli greci i greci giocavano nudi i romani no hanno un senso della morale più pudico gli dà fastidio e cosa amavano i romani? la corsa con i carri il circo massimo i circhi e i giochi gladiatori poi c'è anche l'atletica ma arriva tardi arriva nel 186 d.C. Nerone amava molto l'atletica gli imperatori filo-greci gli imperatori che amavano la cultura greca Nerone, Adriano Diocleziano Caligola Claudio ma è una minoranza è una minoranza di imperatori romani Nerone va a Olimpia a costruire Olimpia anche Diocleziano Nerone aggiunge la corsa con dieci cavalli megalomene qual era gareggia anche lui naturalmente vince perché è l'imperatore però i romani non amavano tanto l'atletica perché era fatta almeno in origine nuda poi un pochino li vestono a Roma amava più ecco con i romani viene sviluppato il terzo aspetto dello sport del rito sociale dello spettacolo il gioco allora non è il gioco come adesso è il grande spettacolo che ha un valore pubblico politico anche offerto regalato dai magistrati regalati dallo Stato pane in eccezcense ma era una cosa utile che aveva una sua funzione cioè i magistrati erano regolamentati gli davano anche da mangiare grano pane oppure i visceri fegato milza i corridoi di Ercolano guardate che meraviglia guardate gli occhi di avorio e pasta di vetro qui si vedono nell'atto di partire lo start i giochi gladiatori certe volte anche i nobili di solito erano schiavi condannati a morte prigionieri di guerra certe volte anche il povero o il nobile un po' esaltato voleva sfidare la sorte e diventare glorioso divo perché non erano simili agli dei gladiatori ma erano dei VIP venivano pagati tanto venivano la loro effigie veniva effigiata nei vasi nelle bottiglie nei bicchieri erano veramente e poi potevano essere alcuno anche liberati poi di tornare liberi vedete sopra c'è scritto abbiamo un reziario con il tridente che ha lanciato la sua rete ma non riesce a vincere Calendio è reziario l'altro è Astianax c'è il nome chi ha vinto? Astianax c'è scritto Astianax vicit Calendio c'è un cerchio sbarrato vuol dire muore morte verrà poi ucciso anche qua un'altra bellissima qua abbiamo uno bravissimo Asiacius che ne ha ucciso Astius e Rodan questo ha ucciso un mirmillone che avevano gli scudi rettangolari c'erano i vari tipi di gladiatori questo è un trace perché ha la manica armata e un elmo a larghe falde e addirittura certi imperatori il film gladiatore ha ragione comodo ogni tanto anche lui andava a gareggiare gli piaceva non i reziari il secutor quello che combatteva contro i reziari l'unica cosa non realistica di quel film è che un imperatore non sarebbe mai stato ucciso non era neanche concepibile non era neanche tecnicamente possibile poi fare questa cosa questo è un mosaico dove si vede la tipica capigliatura degli atleti con questi ciuffi vedete questi tre ciuffi qua un giudice di gara ecco i bichini non l'hanno inventato gli americani dall'isola di bichini del pacifico ma l'hanno inventato i romani i bichini qual è l'altra novità importante dei romani le terme il bagno turco pensate che l'hanno inventato i turchi no il bagno turco arrivano i turchi come anche gli arabi vedono cosa c'era dai bizantini erede dei romani e lo copiano come anche le moschee perché sono rotonde copiano le chiese bizantine rotonde come quella del santo sepolto quindi la grandezza dei romani è l'igiene aggiungono il discorso dell'igiene quindi lo sport si fa anche alle terme si gioca a palla e si nuota c'erano delle palestre apposta chiamate sfere sterili il pallone c'era già allora non come adesso ma c'era pallone con le mani con i piedi e vedete che queste donne che giocano in certi giorni andavano anche le donne alle terme c'è la palma della vittoria in mano queste corono questa c'ha dei pesetti questa gioca con la palla i gladiatori nelle lucerne i gladiatori questo in tutto dovunque c'era l'impero romano secondo una mappa di Carlo V sembra che anche a Tortona ci fosse il teatro l'anfiteatro e il circo qui giocano a dadi non c'entra ma era così bello che ho voluto farvelo vedere Pompei il giocatore di dadi questo bellissimo pugile delle termine di Caracalla non è in movimento ma appena ha fatto una lotta si sta riposando guardate i muscoli guardate l'attenzione la compostezza della postura quindi è la statua greca ma su influsso della logica la statua romana ma l'influsso greco dovrà essere bello e armonioso anche la posizione il gesto la posizione anche di riposo vedete i muscoli scolpiti qua abbiamo un reziario contro un tracce musei capitolini una statua di atleta anche questa meravigliosa questo le termine di Caracalla questi pesi di allenamento e vedete anche i muscoli della donna che sono ben scolpiti il medioevo col cristianesimo è la cavalleria cristiana che salva l'atletismo l'agonismo a Costantinopoli a Bisanzio i giochi durano un po' di più allora Costantino elimina i giochi gladiatori ma continuano a giocare fino al quinto secolo non si uccide più ma si gioca ah un brevissimo ceno mi avevo dimenticato facevano anche le battaglie navali cioè Cesare allaga tutto il campo marzio 10 metri d'acqua e affrontare delle triremi con 3000 schiavi che combattono e si ammazzano fra di loro una cosa fenomenale l'ultimo a fare una battaglia navale non violenta fu Napoleone anche la rivoluzione francese recupera la grandeura romana all'arco della pace a Milano questa è una venazione le battaglie con gli animali piacevano tantissimo le fanno ancora nel quinto secolo a Bisanzio vedete che la pittura diventa già più moderna ma siamo già nel medioevo medioevo bizantino ma il medioevo qua un duello medioevale sempre a Bisanzio l'auriga la corsa dei cavalli che abbiamo detto che piaceva i templari questo non è uno sport ma i templari è l'esaltazione massima del cavaliere monaco guerriero ecco qui i giochi atletici diventano l'allenamento per la battaglia qui giocano a scacchi l'ho messo perché è divertente San Bernardo il maestro spirituale dei templari ha detto guai giocare a scacchi distrarre roba da da ramolliti ma piaceva così tanto il gioco che i templari se ne fregano giocano a scacchi lo stesso i tornei i tornei medioevali diventano un'esibizione atletica importante era scherma era equitazione era lancio al bersaglio era un po' lotta anche alcuni tornei degeneravano in battaglie in massacri qua abbiamo una bellissima miniatura di lancillotto vestito come un templare che erano gli unici che potevano portare la vestito bianco con la croce rossa sopra poi che divenne poi lo stemma di Genova Milano dopo perché parteciparono alle crociate e gli diedero lo stesso stemma di templare questo era un affresco di Pisanello rovinato ma fa vedere il macello che è una mischia di un torneo inizia come torneo diventa una battaglia certe volte si massacravano anche nel 2010 si è tenuto il primo campionato mondiale di battaglia mediovale se andate su youtube e digitate battle of nation la battaglia delle nazioni vedete che se le danno veramente cioè è veramente una cosa interessante lotta scherma che ricorda molto le mischie mediovali c'è anche l'America l'Italia la Nuova Zelanda quindi è diventata adesso sport quello che era ancora nel medioevo certo sono imbottiti non si uccide ma la regola è che se cadi a terra non ti rialzi si contano poi i caduti a terra si danno veramente delle belle spadate e mazzate l'altra grande arte è la caccia che conserva un atletismo una professionalità qua è una caccia al cervo e usano anche delle reti per fermarlo una bellissima caccia notturna di Paolo Uccello guardate che meraviglia qui abbiamo Piero di Cosimo la caccia degli uomini primitivi vista nel 1400 quindi la caccia come qualcosa che abbiamo visto prima le pitture rupestri arriva fino alla caccia alla volpe nel 900 qui non c'entra direttamente con lo sport ma guardate questi movimenti aggraziati dei cavalli che manovrano in poco spazio per entrare a conquistare a occupare Pisa è un anonimo al museo di Dublino ma è un italiano per dire che la cavalleria aveva una sua tecnica cioè certe volte il valore sportivo si nasconde in un'opera d'arte che non parla prettamente di sport ma in questa tecnica di muovere il cavallo in modo ordinato c'è tutta una perizia che è atletica che è professionale come anche nella battaglia di San Romano di Paolo Uccello vedete questo cavaliere fa il salto del cervo una mossa del cavallo che colpiva con due gambe posteriori il dietro e poter ammazzare stendere alla testa un nemico questo è un disegno di Fra Carnevale un artista fine 400 domenicano scoperto da poco non c'entra nulla ma guardate i muscoli di questi atleti in posizione tipo statue il rinascimento l'umanesimo recupera gli ideali antichi quindi la posizione che è quella degli atleti e degli dei e viene ripresa qua per la sua bellezza anche questa posizione di questo quadro di tema religioso ma guardate qua la ripresa degli ideali greci in questa posizione e nei muscoli questo ho avuto il privilegio di vedere questo affresco a Milano Palazzo Borromeo un palazzo vincolato dentro ci sono degli uffici ma sulle pareti c'è questo affresco raffinatissimo con delle donne che giocano con un bastone e una palla l'antenato e la palla maglio l'antenato delle varie pelote cricket golf la pelota in una miniatura mediorale l'antenato della pelota attuale e poi la lotta qui il mito che ritorna nell'apertura rinascimentale Pollaiolo Ercole che alza la terra spezza la schiena al gigante Anteo ancora qua Ercole con Anteo sicuramente se vado un po' veloce e arriviamo al 500 e al 600 dove abbiamo nascono la prima industria libraria iniziano a farsi i primi trattati sulla ginnastica nel 1555 c'è il trattato sul gioco della palla che descrive decine di modi di giocare la palla con le mani con i piedi col bastone col tamburello qui vediamo un cartone di Michelangelo dai muscoli si vede il recupero dell'ideale greco dell'atleta e Davide Michelangelo certo e Davide ma è un atleta questa dalla postura la fionda era molto amata naturalmente dal popolo ebraico ma anche a livello sportivo ancora Michelangelo nella muscolatura e poi ecco qua 1555 un abate di Salò Antonio Scaino trattato del gioco della palla questo l'ho comprato si trova ancora in italiano e latino arte ginnastica fine 500 ristampato nel 1601 guardate le illustrazioni che belle esercizi in palestra con le funi esercizi con i pesi degli antichi anche queste strane questi pannelli usavano per rafforzare i muscoli e la rievocazione dell'antico pugilato in questa bella illustrazione quindi nel momento in cui si spiega il gioco antico lo si rilancia nel presente guardate questo altro trattato di ginnastica la pedana si salta attraverso i cerchi quindi inizia a entrare l'idea che per essere ben educati il nobile il ricco borghese deve fare anche attività fisica lo dice Baldassar Castiglioni al cortigiano lo dice Gargantua e Pantragorelle nel romanzo di Rabelais Gargantua e Pantragorelle dicono il gentiluomo deve sapere tirare di scherma nuotare andare a cavallo e duellare lo dice Erasmo da Rotterdam lo dicono poi i gesuiti misero l'educazione fisica nella loro educazione qui ancora un episodio di caccia molto bella con la balestra si appostavano vicino all'acqua quando il cervo arrivava a bere qui è un caso rarissimo di postura di nuoto qui abbiamo Luca Scranach Fiammingo la fontana dell'eterna giovinezza tema mitologico guardate questa donna che nuota con i piedi a martello fuori dall'acqua il nuoto è forse lo sport meno praticato in antichità Carlo Magno era famoso perché nuotava uno dei pochi che sapeva nuotare e capiva l'importanza anche delle igie un'alta caccia bellissima purtroppo deve andare veloce ancora Ercole Antero di Cranach quindi l'ideale della lotta come l'ideale di bellezza qui abbiamo una cosa stupenda Peter Bruegel fine 500 un dettaglio di un quadro i cacciatori che tornano a casa nella neve guarda patinano sul ghiaccio con dei bastoni giocano una specie di occhi sul ghiaccio e usano anche delle trotto è una specie di carling a Firenze nel 400 ghiacciò l'Arno e con le scope le palle andavano a giocare sopra qui il Davide di Bernini guardate i muscoli tesi nello sforzo le labbra sono serrate quindi c'è uno studio muscolare anatomico fenomenale anche qua si vede bene ancora la caccia ecco questo è un quadro importantissimo c'è una racchetta da tennis la pallacorda una racchetta molto simile alle nostre e un po' più affusolata un tema mitologico Apollo che soccorre già cinto morto con la racchetta non col disco ma con la racchetta da tennis dovrebbe essere un discepolo di Caravaggio che assistette proprio un episodio che ci scappò il morto perché Caravaggio che era un caratterino aveva un rivale in amore che è anche un rivale sportivo alla fine di una partita lo accoltella e quello poi muore Caravaggio scappa va all'isola di Malta si fa proteggere i cavalieri e se la cava quindi è una cosa fenomenale perché a noi sembra una cosa surreale un tema antico con una racchetta moderna no perché veniva poco rappresentata al gioco e allo sport nel 500 e nel 600 perché non ci pensavano e a così normale non perché innanzitutto chi è che commissionava l'opera d'arte il nobile il duca il cardinale che non è che si mettevano a giocare da giovani giocavano ma poi non giocavano più quindi il tema doveva essere solenne ma questo non significa che non fosse importante lo sport lo sport si praticava spontaneamente e soprattutto nelle grandi feste cittadine e religiose per questo è meno rappresentato in questi secoli ma non è meno importante vedremo col calcio fiorentino tema mitologico implicitamente sportivo Atalanta è una specie di ninfa non vuole sposarsi sposo solo chi mi vince nella corsa il pomene la vince buttando per terra dei pomi d'oro lei li raccoglie perché è donna e ama i gioielli e lui vince la corsa quindi vedete che l'arte ripropone sempre l'antico anche la gara per vincere la sposa qui Guido Reni nel 600 un quadro stupendo Atalanta e i pomene ah questa è una meraviglia è un fiammingo che c'è anche a Brera Josef Heinz 1673 Venezia la battaglia dei pugni c'è il ponte dei pugni c'è ancora Venezia uno dei pochi ponti senza parapetto si ammazzavano di botte come gli spartani gli spartani facevano così sul fiume di Sparta vincevano i ragazzi che rimanevano in piedi guardate che meraviglia adesso ve lo ingrandisco queste erano le feste altro che le feste nostre magari facevano solo 5-6 feste l'anno ma qui festeggiavano veramente i nobili che con le tendine guardano e con i ventagli le gondole tutta la città Venezia era divisa in due tre sestieri da una parte tre sestieri dall'altra si fronteggiavano per tutto il giorno su questo ponte viene proibita nel 1705 perché poi qualcuno maleducato portava il coltello e diventava meno sportiva la caccia i giochi coitori in campo San Polo a Venezia un'alta meraviglia i giochi coitori dopo 2000 anni dai cretesi fanno ancora i giochi coitori una festa meravigliosa e non solo durante il Carnevale c'è ancora adesso la regata per la festa del Redentore il 25 aprile mica solo a Venezia a Torino nel 600 allagavano madama Cristina la principessa allagava Piazza Castello e faceva le battaglie navali e mica solo i nobili tutti partecipavano allo spettacolo quindi era rimasto l'idea romana 600 il torneo per festeggiare le nozze fa la famiglia Borromeo la famiglia Altims in un palazzo che a Roma c'è ancora palazzo Altims fanno un torneo come nel Medioevo la giostra del Saracino in piazza di Spagna guardate che meraviglia Piazza di Spagna che è un ipodromo perché si chiama Piazza Navona Navona nave e agone la gara delle navi perché allagavano anche lì Piazza di Spagna e i romani ci facevano le battaglie navali guardate che bello come ad Arezzo la giostra del Saracino i nobili sulle tribune e tutto il popolo che assisteva alla festa e scommettevano quindi non è cambiato nulla il calcio fiorentino calcio non deriva da dare un colpo alla palla col piede ma deriva dalla calza le squadre avevano calze di colori diverse i fiorentini erano pazzi per il calcio che è uno dei tanti giochi a palla tant'è che doveva essere quasi vietato in certe zone perché si ammazzavano anche lì 27 da una parte e 27 dall'altra c'erano proprio dei ruoli gli innanzi quelli che stavano vicino alla metà campo e poi c'erano gli sconciatori e i datori era un gioco dove poteri colpire sia con la mano che con il piede era un macello perché in 27 con dei ruoli non ben coordinati succedeva che la palla andava un po' indietro cioè non si aggiardavano subito a superare la metà campo gli iniziatori c'era un battitore imparziale che la buttava contro il muro e rimbazzava in mezzo gli iniziatori la passavano dietro quelli dietro o la lanciavano col pugno o col piede o la passavano ancora dietro se andava oltre lo steccato c'era anche la gara a chi prendeva la palla che serviva per il possesso palla o le scommesse o il cambio del campo a un certo punto la vietarono la permisero solo a carnevale solo per i nobili perché qua si ammazzavano anche qui fu proibita a Bologna fu proibito perché era pericoloso ma per secoli fu il calcio più vicino al nostro e di un successo clamoroso tant'è che anche i nobili vi partecipavano il 17 febbraio 1530 Firenze è assediata dagli spagnoli c'è la peste c'è la carestia i spagnoli cannoneggiano i fiorentini per far vedere che se ne fregavano del nemico fanno una battaglia di calcio in piazza Santa Croce mettono i trombettieri sulle chiese perché anche i nemici sentissero il suono e si mettono a giocare a pallone quindi lo sport ha sempre aiutato anche nei momenti difficili qui una stampa sulle posizioni dei giocatori del calcio fiorentino la pallacorda l'antenato del tennis era diffuso in tutta Italia ma anche in Europa e anche in Inghilterra ecco gli inglesi sono i primi da organizzare sia sui cavalli che sui giochi perché l'Inghilterra nasce come stato nazionale prima di tutti è unita all'Inghilterra ha le guerre di religioni terribili però è stato nazionale prima della Francia prima di tutti quindi sono più in gamba sono meno creativi degli italiani ci copiano un po' ad esempio i cavalli puro sangue inglesi che i primi sono del 600 ma Enrico VIII che fece le prime gare ippiche pubbliche copiò in realtà si prese ispirazione dai Gonzaga che fecevano le gare equestri dove c'è adesso Palazzo Tea Mantua e nel 1465 Papa Paolo II istituzionalizza la corsa di Berberi che partevano da Piazza Flaminio da Piazza del Popolo fino a Piazza San Marco dove venivano lanciati i cavalli da soli senza fantini e poi era difficile trattenerli vediamo poi nell'800 quindi una corsa che inizia nel 400 questa gara dei Berberi che piacera tantissimo a Roma e dura fino all'800 gli inglesi sono più furbi cioè organizzano me capiscono anche il business di più organizzano quindi nel 600 un avvocato si fa dare l'autorizzazione dal re Giacomo e nel 1612 fa i Coswell Games giochi di Pentecoste un po' per pacificare anche l'inglese terra squassata dalle guerre civili dove fanno se ingrandiamo vediamo la lotta l'equitazione il lancio del giarellotto nel 600 inizia piano piano il gusto per l'antiquariato e l'archeologia ecco qua le stampe che fanno vedere quel disegno che ho fatto vedere io della corsa con i carri del circo massimo con l'obelisco e viene ricordata anche le battaglie navali quindi ogni volta che la cultura va avanti richiama l'antico questo è il paradosso ecco il pallone col bracciale l'antenato della palla a pugno un bracciale di legno di noce con delle punte di corniolo si giocava in tre e si colpiva la palla col bracciale è il gioco più famoso in Italia fino al 1800 e hanno pagato tantissimo come i giocatori adesso i calciatori migliori di adesso nel 1905 uno dei migliori italiani ha pagato 42 lire al giorno una cifra spropositata e c'erano i sferi sterili come i romani persino nel nome da 600 in poi da Roma e poi in tutta Italia poi vi faccio vedere nell'800 lo sferi sterili di macerata costruivano queste palestre per il gioco della palla con lo stesso nome dei romani lo sferi sterili quindi vedete come è rimasto il mito antico dei giochi guardiamo il 700 velocemente perché c'è poco nel 700 perché è un secolo un po' snob ma io qualcosa ho trovato un'acqua forte che fa vedere i vari giochi e c'è questo gioco qua con una mazza che sembra l'antenato del golf battimuro la palla contro il muro la ruzzola poi vediamo com'è il ballone la balla ecco ancora il gioco con i tori in piazza delle procurative cioè piazza San Marco a Venezia questo non c'entra molto ma è un bel tiepolo con i saltimbanchi i pulcinelli saltimbanchi guardate che feste che facevano a Napoli ma in tutte le grandi città italiane a Napoli costruivano la cuccagna ma non come un semplice palo un'intera montagna artificiale con una cascata mettevano un impegno nelle feste che duravano delle settimane certe volte e qua un'altra costruzione immensa qualcosa si è conservato al sud quando fanno le piramide umane o queste macchine teatrali religiose immense il carnevale a Venezia le feste a Venezia con il bucio in toro questo è un goia con il palo della cuccagna il goia con il gioco dei tori ecco questo George Stubb fine Settecento l'Inghilterra punta anche economicamente sul cavallo capisce che non deve essere solo una gara dove si scommette e si fa divertire il pubblico si facevano anche gli hunting matches cioè le gare per testare la velocità dei cavalli per fare poi la caccia da volpe quindi l'economia del cavallo un settore dell'economia con il primo mercato dello sport lo inventano gli inglesi lo sport c'era dappertutto loro si organizzano di più all'inizio del Settecento fanno la prima rivista dedicata allo sport una rivista che si chiama Net Market News e fanno i primi club che danno poi le norme delle gare dei pesi e anche le norme sui cavalli questo è un quadro moderno invece è fine Settecento guardate che anatomia questo dipinge solo cavalli si mette anche a sezionarli per vedere l'anatomia cosa che sarebbe stata considerata fanatica da un italiano del Settecento però loro si professionalizzano si industrializzano ecco sempre lo stesso autore George Stubber un altro guardate le costole del cavallo dell'anatomia il giuramento della pallacorda la rivoluzione francese nasce da una palestra di pallacorda tanto è un importante gioco alla corte di Versailles guardate che grande palestra assisteva allo spettacolo sopra i più nobili e sotto i nobili di meno importanza quindi ancora una volta come i tempi di Giustiniano in un luogo sportivo si fa la storia si fa la politica ecco l'Ottocento che nasce lo sport con il concetto moderno ma sempre riprendendo gli ideali greci e romani cosa succede nell'Ottocento nasce il tempo libero prima non si andava al mare il mare quei poveracci che erano così poveri che non potevano guadagnarsi altrimenti andavano a pescare rischiando la vita il mare era sinonimo di male dagli antichi ebrei fino a settecenti con l'Ottocento i ricchi i nobili l'elite borghese l'Inghilterra e Germania vengono ad Alassio inizia anche il turismo che è un concetto simile al concetto di sport e di tempo libero l'ultima naumachia battaglia navale nel 1807 con Napoleone a Milano non violenta chiaramente ecco qua questo è lo Sferisterio di Macerata 1821 è come un affiteatro allungato adesso lo usano per i concerti un'opera meravigliosa immensa dove giocavano alla palla a pugno alla palla col bracciale e Goethe e Leopardi raccontano queste partite Goethe racconta Verona con 20.000 spettatori lo Sferisterio di Macerata il gioco della ruzzola un disco di legno una forma di formaggio con una fune si lanciava tipo le biglie lungo le vie certe volte fu proibito o regolamentato perché anche lì scappavano delle risse che ci scappava il coltello però era molto amato il gioco della ruzza Theodore Jerry Colt pittore romantico quello che dipinge anche i pazzi nei manicomi guardate che guardo siamo in un'illustrazione di una rivista anni 20 invece siamo all'inizio dell'ottocento i cavalli allungati in modo fine addirittura esagerato questo è lo sport moderno e cosa cambia che adesso chi è che dice fammi un quadro non c'è più tanto il nobile c'è magari il borghese e il borghese magari è meno colto quindi inizia anche il mercato dell'arte quando inizia il mercato dello sport inizia anche il mercato dell'arte quindi perché ci sono più soggetti sportivi nei quadri uno perché lo sport si organizza un po' di più la vita è più standardizzata e organizzata nella società tempo di lavoro tempo libero e chi compra il quadro o lo commissiona vuole un quadro che gli piace a sé è un committente borghese inizia il gusto l'opinione pubblica e allora uno nel suo quadro a casa sua vuole vedere quello che succede quello che gli piace come adesso ecco la corsa dei Berberi piazza del popolo qua partono sempre Jerry Coulth sembra un altro autore invece lo stesso pittore di prima ecco qua qui sono appena partiti la piazza del popolo e qua arrivano a piazza San Marco qualcuno ci rimette perché nel trattenere dei cavalli selvaggi può rimanere anche schiacciato il romanticismo rilancia il medioevo in modo un po' edulcorato un po' sentimentale quindi anche i quadri con i cavalieri medievali questo è un quadro importante nel romanticismo Gaspar Friedrich guardate il titolo che bello è romantico anche il titolo il viandante di fronte al mare di nebbia è implicitamente sportivo anche questo anche se non fa vedere uno sport particolare perché è un uomo da solo non si vede neanche il volto che scala una montagna impervia e questa è l'essenza del romanticismo l'essenza sportiva l'uomo che affronta le tempeste della vita delle passioni e le rappresenta come una tempesta fisica naturale qui la ripresa nei quadri romantici dell'antichità Achille che trascina Ettore una battaglia navale in un quadro di un pittore romantico italiano Aietz Sansone che sconfigge il leone ma un Sansone atletico come gli antichi greci e i romani a questo un bellissimo tracce in un quadro di Geron sempre un pittore romantico francese e così vediamo bene come era fatto il tracce con quell'elmo lì e al braccio destro armato il canottaggio guardate l'abbigliamento dei due canottieri questo è vestito quasi normalmente tranne il cappello di paglia quindi è un dilettante questo qua ha quei camicioni a righe e ci dice che è già un professionista quindi inizia anche la distinzione fra dilettante e professionista altro bel quadro di canottieri e qui ecco la rivoluzione borghese fino a 50 anni prima nessuno si sarebbe mai sognato di mettere degli uomini in canottieri in un quadro qua ci sono i canottieri che dopo aver essersi divertiti fanno la loro bella merenda con le fidanzate spaparazzati è un quadro è quello che continua fino ad oggi quindi lo sport come anche divertimento come rito sociale e borghese Degas Degas è famoso per le ballerine ma in realtà dovrebbe essere più famoso per i cavalli perché è così appassionato di cavalli che fa una marea di quadri con i cavalli guardate questo Degas fa anche un quadro dedicato agli spartani ecco le ragazze nude che si allenano con i ragazzi infatti il quadro si chiama agoghe cioè l'esercitazione l'educazione degli spartani che iniziava a 7 anni e finiva a 19 anni poi a 20 diventavano guerrieri un altro pittore romantico inglese gli inglesi e i tedeschi nell'ottocento rilanciano il mito della Grecia le ragazze che giocano a palla questo quadro rimane fenomenale sul fondo abbiamo un quadro macchiettistico vedete che è poco definito guardate i cavalieri come sono definiti sembra anche qua un fumetto un'illustrazione pubblicitaria che rompono nella scena dietro siamo un quadro inizio 800 qua siamo un quadro già del 900 sui cavalieri questa presa qua adesso sembra normale fare un dipinto così allora è rivoluzionario far vedere i cavalli che ti vengono addosso in primo piano è veramente un realismo unito però all'idealismo anche al sentimento ai valori qui la visione più giocosa e privata e poi l'arte deco raffinata che riprende un po' l'eleganza degli antichi greci col 900 ci abbiamo un'esplosione si sviluppa ulteriormente questo trionfo dello sport nell'arte ho preso due opere per sintetizzare cos'è il 900 Boccioni al museo del 900 energia velocità il futurismo e la città che sale il bozzetto è brea questo è il metropolitan l'energia e quindi è un secolo sportivo purtroppo sarà anche un secolo di guerra ma è un secolo sportivo il 900 guardate Picasso i muscoli di questo il quadro non è sullo sport ma fa vedere il successo dello sport questo il 900 ha tante anime questo è un quadro inglese in 1906 partita di cricket partita di tennis e insieme il conversare rilassarsi quindi lo sport inteso anche come divertimento queste le donne che giocano anche le donne diventano più protagoniste il futurismo il cubismo e il manifesto pubblicitario il velodromo opera nel 1912 inizia la grande epopeia del ciclismo i boccioni un ciclista futurista nella visione futurista sono linee di energia ma c'è l'idea del ciclismo non c'è il realismo ma c'è l'idea il valore questo Henri Rousseau è un pittore un po' naif un po' surreale qua i giocatori di palla ovale o di pallone elastico ancora il futurismo questo bellissimo guardate motoscafo che si vede per un pelo si vedono le linee di energia sull'acqua balla carà ecco sport e moda sport e femminilità Tamara Dell'Empica l'autoritratto alla guida di una Bugatti non sta descrivendo un'attività sportiva ma c'è tutto lo sport nell'eleganza nella donna vestita un po' anni venti col capelli corti e il casco da corridore i guanti per tenere più la presa sul volante Tamara qui sembra quasi che riacchieggia l'arte antica della maddalena che guarda in cielo ma non è più una maddalena penitente ma è una turista a St. Moritz 1929 Alici Sassu la ripresa della muscolarità dei miti greci l'ira di Achille la partita di pallone De Chirico anche qua con gli atleti in chiave surreale e gladiatori anche qua la squadra dei gladiatori di De Chirico vado un po' veloce perché voglio far vedere due minuti di arte politica che è molto importante anche quella i bagnanti di Inofrio Martinelli non è un tema sportivo ma guardate la muscolarità la postura tra su da sport comunque questa opera campione mondiale di pesi massimi tedesco 1932 dipinto da Carlo Vitale bellissima partita di pallone stile anni 30 della pittura capelli corti stile semplificato Aligi Sassu abbiamo un Coppi in fondo c'è un Coppi Aligi Sassu e poi ho quasi finito ancora Aligi Sassu da lì persino da lì riempie di biciclette una sua visione onirica e anche qua dedica allo sport non so in che senso ma comunque dedica allo sport anche questa opera Sironi grande pittore del novecento e Sironi con il ciclismo e il pugilato Bellows anche questo ormai è un quadro di cronaca potrebbe essere una fotografia un quadro di fotografia Guttuso riprende gli antichi tuffi degli antichi greci dipingendo il teatro di Messina guardate che tuffo perfetto che entra in verticale l'arte deco con la ginnastica artistica Lucio Fontana il campione olimpico ora finiamo con alcuni esempi molto importanti perché fu importante anche quello che adesso chiamiamo ideologia è facile chiamare le ideologie quando sono finite certo produssero milioni di morti ma c'erano anche milioni di persone che ci credevano ma non è importante l'aspetto politico è importante l'aspetto culturale in questa sede cioè il fascismo il nazionalsocialismo il comunismo artisticamente non sono così diversi perché tutti e tre il nazionalsocialismo meno il nazionalsocialismo prende gli ideali più greci il tedesco vuole imitare il greco lo spartano purtroppo lo imita male senza codice d'onore gli italiani l'italiano inventa il futurismo il futurismo influenza tutto il mondo l'ultima grande corrente artistica il marinetti lo presenta a Parigi ci copiano tutti e anche i sovietici chiaramente i politici fascisti i comunisti usano il futurismo per propaganda ma anche Napoleone usò lo stile impero un po' lo modificano ma i valori del futurismo sono valori sportivi guardiamo l'arte sovietica 1912 non sono ancora a potere il comunismo non è ancora al potere ma questo è un quadro futurista l'atletismo la semplificazione delle linee l'energia questo è un quadro importantissimo 1929 il popolo del futuro il futurismo diventa fantascienza non pensate che il comunismo sia stato solo materialismo se no non avrebbe avuto successo il comunismo aveva anche una sua chiamiamola dottrina esoterica chiamata cosmismo a cui aggerisce ancora Yui Gagarin e a cui accenna ancora Gorbachev il cosmismo era un amisto di fede nella scienza panteismo insomma questo è un quadro che adesso ci sono queste parecchie che ti fanno volare per breve tratto ma da soli questi addirittura li profetizzano nel 1929 il popolo del futuro cioè noi non siamo così futuristi oggi ma per divertirsi vanno a farsi una scampagnata nel cielo quindi un quadro futurista sovietico bellissimo la tipica gara di atletica guardate lo starter ha una pistola nell'ottocento gli insegnanti di ginnastica erano militari questo è un pittore russo-ucraino dietro c'è il treno il paesaggio industriale ma i giovani nudi come gli spartani che corrono parono il pallone questa bellissima corsa campestre con le ragazze guardate che meraviglia è un quadro greco però invece è un quadro sovietico degli anni 60 quadro più politico ma sempre con gli atleti che marciano qua è una fotografia questo è bellissimo anni 60 guardate questi atleti questo con la magnesite che si appassa sulle mani guardate le tipiche posture l'allenatore forse appena parlato deve parlare insomma è una scena realistica ma nello stesso tempo ideale realismo idealismo messo insieme l'atleta anche qua cosa fa il novecento cosa fanno le ideologie ideali del novecento riprendono gli ideali antichi tentano di riprendere gli ideali antichi poi loro fanno male però la pubblicità un atleta che lancia il motore fiat che fa 709 km all'ora l'Italia era l'avanguardia a livello tecnologico dei motori i giochi del litorale la romanità nei quadri galata morente ripreso ma che è anche un atleta foro italico questa bellissima statua di lottatore che si chiamava foro Mussolini la famiglia ariana ecco l'ideale greco la famiglia ariana questo è un quadro bellissimo molto greco la venere contadina questi buffi calzettoni ma è il mito il nazionalsocialismo cerca cerca attenta di presentarsi come incarnazione della nuova Sparta della nuova grecità e anche in realtà è un quadro romantico perché sono il romanticismo che riprende i costumi del popolo le fiabi i proverbi il discorso di rappresentare il popolo questo è un quadro che c'è in un palazzo presidenziale di Hitler da sinistra a destra il fuoco e tre allegorie donna fuoco donna acqua donna terra e donna vento i quattro elementi vedi la ripresa della grecità anche nella dottrina degli elementi la casa dell'arte a Monaco è un porticato greco questi erano i ginnasi queste erano le palestre all'inizio erano porticati piste di betera battuta e poi porticati questo è il plastico di Albert Speer che fu un genio dell'architettura è geniale e artistica solo il progetto dello stadio di Monaco scusate di Norimberva che poi non fu fatto così immenso cinque ordini gradinati una cosa più che greca sembra babilonese o sire Albert Speer arrivò a teorizzare le rovine cioè dice il monumento deve essere così grande così bello così celebrativo che deve restare opera d'arte anche fra mille anni quando sarà una rovina quindi va costruito in modo che anche se è mezzo distrutto come Colosseo rimane una grande opera d'arte Albert Speer poi avrà anche un bel percorso di vita per cui dopo la guerra cambierà aiuterà gli ebrei era comunque un genio non c'entra la politica qua è il genio dell'artista i giochi con la fotografia il cinema con il nazionalsocialismo punta molto a fine di propaganda non solo sullo sport ma sul cinema l'Olimpiadi del 1936 l'arte fa capire la verità la bandiera olimpica è rovesciata sopra c'è la svastica forse è stato un lapsus ma vedete che in realtà non erano veri sportivi perché la bandiera olimpica testa in giù e cappeggia la svastica quindi l'arte costringe l'uomo a essere sincero perché pesca anche dall'inconscio la prima donna regista la regista di Hitler che fa un film nel 1936 è chiamato Olimpia e fa vedere donne anche nude Lenny Riesens scusate Riesens ecco qua una donna nuda uno scandalo negli anni 30 però non in un film a favore del nazismo che rievoca il mito di Olimpia e questa è l'arte di regime che quindi influenzata dal futurismo rievoca anche essa come tutta l'arte del novecento il Colosseo cioè l'antichità o greca o romana gli italiani più quella romana i tedeschi più quella greca l'arte sovietica prende dal futurismo italiano e lo sviluppa grazie io ringrazio Giacomo che ha fatto tutta la storia dell'uomo praticamente è una cosa enorme anche perché poi per raccogliere tutte queste informazioni probabilmente ha dovuto studiarne molte di più io rubo scusate approfitto ancora cinque righe di Clemente Alessandrino padre della chiesa secondo secolo dopo Cristo per spiegare la fede dice la fede è come il gioco della palla che non dipende solo da colui che lancia la palla a regola d'arte ma c'è anche bisogno di uno che riceva la palla con lo stesso ritmo perché la gara si compia secondo le regole cioè addirittura per far capire cos'è la religione uno dei padri della chiesa deve usare lo sport perché c'è la dialettica ma gli altri interno e esterno per dire quanto è importante quanto è dentro l'animo umano lo sport no no certo è bellissimo se ci sono domande ecco aspetta dove è Mariano dove sei eh ma poi non viene nella registrazione vabbè domanda troppo tecnica da archeologo e purtroppo non non so non so dire piazza Navona abbiamo visto è usata per la corsa di Cari e per le battaglie navali e quindi è lo stadio di Domiziano piazza Navona Domiziano era un imperatore filo greco sì sopra sì si è ricostruita però a posto delle fontane c'erano le mete la spina la parte centrale quindi Domiziano era un imperatore filo greco quindi a Roma mette uno stadio di atletica che interessava poco ai romani però ci fanno le corse con i cari poi ci fanno le battaglie navali queste rimangono più nell'immaginazione allora si chiama Agone Navale Navona però abbiamo visto che ancora nel 600 facevano i tornelli gioste di Saracino quindi ecco in piazza Navona è proprio un simbolo perché della festa del popolo dell'assemblea un po' religiosa un po' sociale un po' sportiva e per vedere questo concetto di festa che noi abbiamo perso che è un po' dispiace perché sono un po' festaiolo almeno in una parte di me stesso e quindi le feste che facevano a Torino a Bologna a Roma non erano solo per i nobili erano offerte da tutta la popolazione come gli imperatori romani le offerivano a tutti quando fu inaugurato il Colosseo fecero 100 giorni di giochi Tito 100 giorni di giochi Traiano fece addirittura ci furono delle leggi che poi limitavano le spese perché certi nobili si rovinavano se facevi male il calcolo spendere troppo poi non ottenevi la carica che volevi ottenere col successo ti rovinavi e quindi regolavano il numero il budget e anche il numero di gladiatori che dovevano partecipare ma Cesare fece dei giochi con 312 coppie di gladiatori adesso a noi farebbe orrore vedere un po' orrore perché devi immaginare la sabbia insanguinata la gente che mangiava sugli spalti quindi insanguinati anche loro e 70.000 persone che gridano iugula sgozzalo però allora era diverso è un onore per lo schiavo morire così e c'era sacrificio di Dei finisco però lascio la parola al vice signor lo stadio del Colosseo chiamato l'affiderato Flavio Colosseo perché era colossale 75.000 persone in 7 minuti uscivano tutti e era così costruito bene tutta una porta che in 7 minuti uscivano tutti io faccio una domanda perché insomma dopo un intervento dopo quello che ha detto Giacomo Maria Prati dopo veramente la puntualità di queste argomentazioni che non sono state facili hai fatto un grandissimo lavoro secondo me però ecco una riflessione mi viene da pensare quindi ti faccio una domanda ma cos'è è solo una riflessione che facciamo tutti insieme abbiamo visto come lo sport era nel passato più parte della nostra vita cioè faceva proprio parte della vita che veniva a strutturarsi nelle varie comunità e oggi invece vediamo che lo sport è qualcosa che sembra quasi appartenere allo stadio e non appartiene alla nostra vita quotidiana e quindi mi viene da pensare come in questo momento per esempio i giovani che praticano gli sport di strada che noi non consideriamo quasi degli sport cioè nel senso che non abbiamo delle accademie di sport di strada non abbiamo dei luoghi dove loro possono diciamo praticare questi sport del come invece loro sostanzialmente vanno proprio a far capire qual è la vita oggi ho ricevuto una telefonata che parlava di questo nuovo sport che si chiama CrossFit che è sostanzialmente una sorta di ginnastica che viene fatta suburban cioè all'interno delle strade quindi fatti in un certo modo le gare vengono corsi all'interno dei centri urbani per cercare di trovare ostacoli da superare quindi mi fa venire mi fa pensare come sarebbe diciamo interessante anche cercare di promuovere culture di questo genere perché sostanzialmente il tuo diciamo passaggio nel passato e soprattutto nel passato greco mi fa pensare come facessero parte della vita di tutti i giorni del come oggi noi invece interpretiamo lo sport in altro modo probabilmente attaccandoci più all'aspetto diciamo così della salute fisica e della bellezza fisica perché poi c'è anche questo aspetto che oggi prevale spesso e volentieri però devo dire che è stato molto interessante questo passaggio per me quindi ecco se vuoi così c'è un nuovo sport che mi ha fatto venire in mente non mi ricordo il nome in inglese quelli che si arampicano sugli edifici saltano anche quello interessante è anche qua la spontaneità repressa dalla società moderna disperatamente cerca di tornare come dicevi tu i giochi prima erano per strada e durante le feste tranne i ceto medio alto borghese nobiliare che era proprio un'educazione però anche loro iniziava spontaneamente adesso interessante questo tentativo l'ultra modernità in realtà riprende la spontaneità di giocare con quello che avevi adesso abbiamo delle architetture metropolitane e questi si arampicano anche ogni tanto facendo stimale ma è interessante però c'è anche la battaglia mediovale come sport quindi anche il recupero proprio realistico dell'antico interessante quindi sono dei segni positivi io vi ringrazio intanto di avermi invitato a questa a questa serata e devo dire che la prima volta che è arrivata la locandina su questo ciclo di incontri che vengono fatti che verranno fatti anche in futuro mi è stato detto io curiosamente ho guardato e ho detto ma guarda che cosa strana parlano di un qualcosa che riguarda i vaccini e c'è lo sport e c'è qualcosa che riguarda la cultura e c'è lo sport c'è un'associazione che si occupa di pallamano quindi della Dertona a pallamano organizza dei cicli così diversi da quella che è l'attività sportiva in realtà poi mi sono fermato e poi ho incontrato il dottor Rizzi infatti gli ho detto ma questa cosa che tu stai organizzando è veramente innovativa perché cerca di mettere insieme e di fare vedere le prospettive dello sport da diverse angolature quindi sostanzialmente fa partecipare di più allo sport cioè io stasera sono convinto che domani mattina domani sera quando andrò a correre correrò in modo anche un po' diverso pensando magari a tutto quello che si è detto questa sera anche sulla bellezza sulla forza su quello che lo sport rappresenta dal punto di vista artistico e storico quindi sostanzialmente devo dire che trovo oggi veramente innovativo questo modo di anche interpretare questi incontri del modo in cui questi incontri si possono sviluppare questo vale per tutto secondo me perché oggi abbiamo sempre più bisogno di vedere una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza non è facile sviluppare il senso civico apparentemente crediamo di essere molto partecipi alla vita della nostra città in realtà non lo siamo molto dobbiamo ammettere che stiamo perdendo molto del senso civico e quindi cercare di recuperare questa cultura mettendo insieme quello che si ha cioè mettendo insieme il gioco della pallamano che comunque è praticato da famiglie che ne trovano un giovamento fisico per i propri figli ma al tempo stesso anche la possibilità di giocare quello può diventare anche cultura perché se no viceversa tenderemo a non avere più cultura comunque può essere un elemento importante per capire che cosa è l'alimentazione e come ci si alimenta cioè questo permette di dare vita ad una maggiore partecipazione questo secondo me è una strada che dovremmo cercare di percorrere tutti insieme sarà difficilissima perché una barriera culturale secondo me è difficilissima da sconfiggere cioè il fatto di cercare di mettere insieme le cose vedo che oggi cercare di far sì che le attività economiche possono andare non so con le politiche giovanili diventa una cosa che uno diceva no le politiche giovanili sono un aspetto sociale non sono un aspetto eco no le politiche sono anche queste perché riguarda le attività economiche sono il lavoro sono il co-working sono no mille cose quindi secondo me dovremmo cercare con uno sforzo tutti culturali di andare verso questa dimensione quindi io ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato di dirti questa cosa di ascoltare questa veramente serata che tu hai fatto un lavoro di preparazione secondo me straordinario però soprattutto ti premia con questo aspetto innovativo che secondo me fa riflettere cioè il fatto che tu abbia organizzato una serata di questo genere e Giacomo Maria Prati abbia capito e soprattutto abbia saputo dare un tocco così particolare all'arte alla storia dello sport con l'arte quindi ci ha dato secondo me è stato un'ora e mezza proprio passata piacevolmente quindi ti ringrazio spero in futuro di poter ancora venire ai tuoi incontri mi hai detto che ne farai uno con la promozione del volontariato e credo che sia veramente un momento importante perché lo sport è anche volontariato è prevenzione come hai fatto con la Lilt e quindi tutte queste cose secondo me hai fatto benissimo e magari domani sarà anche strada o piuttosto che altre cose quindi poi puoi veramente aprire delle nuove frontiere con questa cosa complimenti complimenti alla Dertone grazie 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 Giacomo io lo sapevo che avrebbe fatto qualcosa di particolare conoscendolo quindi è stato difficile sintetizzare come ha detto Gianluca il bello dello sport è l'arte che sintetizzano però mi sono accorto che per parlare di arte e sport hai dovuto parlare di tutto della storia della cultura di come è cambiato cioè di 3.000 anni perché tutto si incrociava con arte e sport e quindi dice la grandezza dell'arte ma anche dello sport perché c'è tutto in mezzo la società la religione le abitudini la storia gli eventi è fenomenale ecco io ricordo che il prossimo incontro è il 27 che è un venerdì di marzo e parleremo di volontariato ci sarà la dottoressa Pia Camagna che parlerà di volontariato se non ci sono altre domande vi ringrazio e vi saluto e grazie soprattutto grazie a tutti grazie a tutti